No, che poi sentono le scorreggie, no, mi dissolgo. È bello, è bello. Come mettermi dopo uno a borsa, bravo. Non ci credo. I want this, I'm thinking, say. Guarda che se c'è, uno se c'è. Tocco che lo fa, bravo. Allora, ragazzi. Traccato quello, eh. Di lupo, vi do dieci euro. Perché non mi agganciavano i punti? I punti. Ha detto. Che ha detto. Ogni due, mi... Se facciamo due win, mi dà dieci euro. Vengo con te, lupo. Mi aspettavo, scusa, per ieri. Mi raccomando, Daniele. Mi raccomando, fra. Abbiamo esagerato ieri, mi raccomando. Cavolo, c'è il scopo. Lascio, lascio, tu, lupo, eh. Non lascio, tu, lupo, eh. Lascio, in te, lupo, lupo. Mamma mia, lupo. Lascio, mi raccomando, lascio, mi raccomando. No. Mi ha fatto due kill, però. C'era un tizio col pombo, mi ha fatto. Ce n'è un altro, forse, eh? No, vabbè, ma ti ha fatto perché ti ho detto di lasciarmi una kill. Non ci ha fatto, non ci ha fatto. Non l'autoressa, eh. Attenzione. Ok. Hai finito il team. Vai, 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 è molto ombrello. Buonasera, buonasera Luigi, buonasera a tutti. Buonasera Roberta. Roberta, Roberta. Senti, è molto ombrello. Mi manca il cappello. Ah no, il cappello ce l'ho. Se te danno che il più bello sono sempre io, è difficile dirlo. Ah, mia. Oh, mamma mia. Matti, ma dove vuoi fare Matti? Matti, mannaggia a chi debbi. No. A chi debbi? Eccolo, vedi? Eh, non c'è. Vedi che si deve stare lì e poi muore. Vedi, vedi, vedi che dice che si deve stare lì e poi muore. Lasciamolo sulla gru. Buonasera Piaccio, buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. Tornato Gattuso, signori. Direttamente dall'Ascoli Piceno. Ah no. Non era nell'Ascoli Piceno. Uè, buonasera Raff, buonasera. Saluto a Raff, Armando. Grazie Raff, ciao bello mio. Grazie per tutto. Siamo capiti. Grazie. Sì, sì. Cioè, come l'hai salutato? Sembra che tipo tu stavi al semaforo a vendere i fazzoletti. Aspetta, qualche volta non ho capito. No, niente, non ho detto niente. No, io no, Giovanni, non sono in BP, bro. Non sono in BP. No, no, no. Buonasera Davide. Buonasera Davide. Mi dissocio, buonasera a tutti. Era il primo a mi dissocio dell'Upo Bianco, eccolo qua. Eh, per forza doveva arrivare. Solo un attimo. Buongiorno. Oh, mio Dio. Bravo, ammattio. Ciao, ammattio. Oh, mi dissocio. Mi dissocio. Oh, finalmente ti è tornato il pollice. Ho sentito quelli di Facebook. Stanno cercando di risolvere un attimo dei problemi. Io ho segnalato il fatto che non arrivano a molte le notifiche della live. Mi ha detto che ci stanno lavorando su. C'era un altro problema, non mi ricordo di che. Ah, che a volte è oscura. I commenti live o arrivano in ritardo. Io ho detto anche questo perché ho notato. L'ho detto che ci stanno lavorando. Calcolate che è agosto, ora arrivano anche le ferie. Quindi ci vorrà tempo. Buonasera Benedetto. Buonasera Massimo. A Domenico gli è tornato il pollice. Meno male, gliel'hanno rimpiantato. Vendicato è Batman. Una terra sopra, una terra sopra. Una terra sopra, zio Perone. Una terra. Ando. Manuel. Buonasera Doria. No, non ho capito. Allora, non finito. Quando volete potrete uscire. Ah. Ma dove cazzo sta ci parlando? Raga, da dietro, da dietro, da dietro sul tetto che mi stanno salando. No, non ci stanno. Il Wab non li pinga. Al massimo i 2-4. No, 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 che cazzo. Guarda quello di control. Oh, questo è fattissimo. E' solo. Eh dai. Non sto beccando nessuno. Queste cose non si dicono. E' caduto, senza pianta. Vedete come ti vingo il fan e tamma di nude. Deve essere troppo brutale, però, lupo. Vabbè, lupo è già brutto. No. 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 Eh, ma aspetta. Ma hai visto che io ho tolto tutto? Io ho tolto tutto e non è morto. No, aspetta. Vabbè, imbarazzante sto gioco. Frago, ma vinto il fight. Ho sparato a terra, zio. Assurdo. Mi è piaciuta la clip di TikTok. L'hai visto, domenico, la clip di TikTok? Dico, la mia. Quella che avevo pubblicato. Ho visto anche la tua. Sì, sì. Mi è piaciuta. Mi è piaciuta. La devo fare anch'io, in realtà. Eccolo qua. Quello che ha vinto contro di me. Devo farla anch'io. A volte è imbarazzante sto gioco. Frago, ma vinto quel fight. Ha sparato comunque. Poi alla fine mi ha sparato. Se arriva uno, mi ho batto qua. Eh, vabbè, vai, vai. Ma in culo, va. Bravo. Caperello, top. Che ci devo dire? Per salvare te. Per salvare te. Sono morto anch'io per salvare te. Bravo. Quello è il culo. Bravo. Bravo, lupo. No, non ti salvo più. No, non ti salvo più. Ma non ti salvo più. Ma vaffanculo, non ti regalo niente. No. In realtà ho rimesso l'altro perché adesso senza tre tasti sotto non mi trovo. Non ho capito. Eh, io mo' gioco a tre tasti sotto. Sì, non mi trovo più a... A tre tasti sotto, non ho capito. Eh, gioco a tre io sotto. È a quattro. Il quarto non lo uso perché non lo so usare. Però ne uso tre ma. Comunque sono riuscito a cambiare i tasti sotto. Gli analogici sono belli, Fra. Ne trovo sono belli precisi. Ne ho provati. Ma ti pare che faccio lavori fatto a casa? No, no, no. Assolutamente. Vabbè, dai. Basta, seriamente. Eh, sono troppo sul te. C'è un bacione col... Con la magia qua. Con la magia qua. Con la magia. Voi cazzo, alto stato usando, raga. Stg. Ma... Io sì, io sì, io lo tiro, l'M3, io lo so, non capisco. Io sarebbe stata la grabbia. Niente, comunque fa ancora eco, armare. No, c'è la soglia del microfono troppo alta, capito? Con la soglia del microfono? Troppo alta. Quindi lui prende praticamente quello che esce dalle cuffie. No, c'hai la soglia troppo alta. Se la metto a zero, lui prende tutto, capito? La soglia deve stare a 3,16. È di base. Ma, siccome sentite, la devo mettere un po' più alta. L'ho visto. L'hame, mortazzo. Mortazzo, esatto. Io sono morto, c'è c'è. Andiamo, 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 andiamo. Al momento sto usando uno scuff, io. Sto usando uno scuff della Play 5, che ha 4 tassi sotto, però gioco a 3. Il quarto non lo uso. Ma no, gioco da computer io, eh. Quella madonna, ce n'erano due qua dietro. Non era uno. No, io non sono entrato proprio in fight. Erano tre e mi sono buttato in mezzo come un cretino. Eh, c'è sta. C'è sta. No, deve migliorare un attimo la soglia perché fa troppo ego. Ora sì, Recilo, va bene, la prima di riscaldamento. Sto usando l'Elite 2 serie, l'Xbox. Quello è buono pure come pad, eh. Quello, quello è buono. Prova a vedere un attimo sto fatto della soglia. Ma, questo bisogna risolverlo. Oppure, se non si riesce... Adesso, vedi che adesso non senti più, ecco. No, no, sento ancora. Prova, 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 sassa, sassa, prova. Ma scusa, ma il volume del microfono, quando ce l'hai? Forse è quello che ha alzato troppo, eh. Secondo me non è manco la soglia. Secondo me ha alzato il volume del microfono. Quanto ce l'hai nel gioco? Prova, prova. La soglia, la... Dopo ce l'ho la soglia, al momento ce l'hai. Io non le private. No, la soglia, il volume, quanto ce l'hai? 102. Il volume, 102, va bene, non è quello il problema. Allora, qualcosa che bisogna settare sul... Eh, io non lo sento più la tua. No, no, ce l'ha ancora. Ah, vai, vai. No, non è che va settato sul computer, in realtà, non dal gioco. Secondo me è qualcosa nel computer, allora. Deve settare qualcosa del microfono dal pc proprio. Secondo me devi cambiare la scheda video. Che hai il tuo microfono? No, comunque... Ui, White Wolf, buonasera, Francesco. Uuuu, Domenico Capoccione con la sabbettina. Attenzione, vai, paga. 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 Grazie mille per la sub, benvenuto. Private, ragazzi. No, non l'ho visto, Daniele, non l'ho visto. Ma le private ci sono? Ci invita? Eccoli, ci stanno inviti. Vai, vai, vai. Ok, allora, signori, ci andiamo a fare un attimo di allenamento in privata. Brava, è Capoccio. Paga. Bisogna entrare nelle impostazioni audio del pc e verificare un attimo là dentro, praticamente. Qualcosa delle impostazioni audio sul microfono. C'è qualcosa di sbagliato. Ma ha invitato, eh? Sì, si parte. Eh, ma che squadra, mo'. Ah. Oh, qui è? Però andrà... Minchia, ci sono tutti. Madonna, c'è pure Trambo. Aspetta. Oh, Trambo è bot. Trambo è bot. Che bella. Ui, bot. Lo metto a bianco. Lo metto a bianco. Buonasera, ragazzi. Allora. Buonasera a lei. Bella, bella. Buonasera. E sono venuto qui. Buonasera. Buonasera. Sono con il team officina del PAD, quindi... Sono venuto qui con loro. Però vedo che non ci stanno... A dopo, ciao. Non ci stanno i posti, quindi... Siamo tutti mischiati. Stai qui. Stai qui. Stai qui. Sì, sì. Ma posso sabotare la partita? Sta zitto, sta. Dai, nella squadra di là ci sta. Ma come facciamo? Vabbè, sto qua, fratelli. Signori, sto giocando con tramonte adesso. Incredibile. Assurdo. Vabbè, è capitata così e va bene. Vedi che devi fare? Che è sicuro che ti incontro. Beh, ti killo. Che devo fare? Raffaele, a dopo. A dopo, caro. Grazie mille per le 200 stelle. Vedi, sono con... Incredibile. Sono con tramonte. Ok. Dai, dovevamo giocare... Vabbè. Vabbè. Andiamo... Oh, andiamo a vincere sta partita. C'è bella gente, comunque. Noi prima abbiamo fatto una partita. Abbiamo fatto un bel killio e il bot. Bravo, bravo. C'era un assurdo con noi, senza mani. Allora, ma è acquittato? Con noi non c'era... No, no, entra... Ma è da play? Entra, entra. Ma è quel... No, ha una disconnessione a caso di un errore di bot. Buonasera, Francesco. Spring wing. No, a volte lo fa, ma non so cosa vuol dire, cosa significhi. Vado, pingo 19, zio. 15. Fammi vedere un attimo dell'opposizione. Vabbè, io pingo 60. Però in realtà mi dice che pingo 30, mo. Cioè, se vado in account mi dice sui 30-40. Sì, ma se vedo in alto a sinistra mi dice 19. Ma è pure a me uguale. No, non ho capito perché questa differenza, non l'ho mai capito. In account mi da 30, qua mi da 19. Vabbè. Vabbè, andiamo a vincere sta partita. Andiamo a vincere. Ma il signor Starsky è quello Starsky? Sì, 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 è Christian. No. Dove andiamo, dove andiamo? No, dico, ma è Starsky... Mr. Starsky è il mio fratello, però. Ah, ok. Andiamo sotto qui, dai. Madonna, la gente che ho appriso... Anche noi siamo andati a preso una volta. Alla giovane, buonasera Alessandro, buonasera a tutti. Posciamo fare il lancio subito? Ce l'abbiamo già 6.000, eh? Giusto per info. Sì, ci abbiamo 6.800, dai. Ce l'abbiamo. Anche voi, vai, vai, vai. Ma non ce l'abbiamo a carrello, Dio. Andiamo a darlo? C'è il carrello qui, sì, sì, sì. Dai, dai, andiamo a farlo. Attenzione, perché non so dove sono scesi tutti. Cosa faresti per 100.000 euro, cioè un milione di stelle? Non lo so. Ma che culo ha trovato il carrello portatile. Culo. Dimmelo, lupo! Dimmelo, toto, dimmelo, toto. Tremus, casere, è loadout. Tienes, tienes. Oh, mucho, mucho guidato, bro, è mucho guidato. Oh, e sta sopra, nova, sopra, nova, sopra, nova. Sopra, super, 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 super. Ok, va bene. E dove sei coni? Incredibile, mi ha preso il bombardamento. Oh, stanno le armi, ragazzi. Capa. Audio. Che cazzo. Eh, certo, in due. Per forte è in due. Non si può preferire, devo dire, ma che sto necamperando. No. Vado, vado. Audio, audio. Eh, niente, niente, maggi, vado. Regà, nova, purtroppo bisogna andare subito via, eh. Eh, sì, sì. Io vado a tendere, vado a duttare un po', vediamo se c'è qualcosa. Niente. Duttato. No, è arrivato un team intero, eh. Cacca due, porco. Vorrei riprovar il lancio, però non sono sicuro, eh. No, non fai, guarda. Ah, c'è anche King 6. No, sul lancio c'è gente. No. Prison, c'è gente sul tetto. Le faccio un'altra, ragazzi, questa è la mia caccia, dai. Cosa riusciamo a fare? Io ci ho fatto... La terra, adesso. Porca miseria. Però due me li sono tirati via. Quanto me li devo tirare? Me li stavo a tirare tutti via, nova. Allora, buonasera, Simone. Con che arma suoi cassa... Ah, con che arma suoi cassa, ora, hermano? Disposta è l'actualizzazione. Che è l'actualizzazione? Ora sto giocando con l'STG 44 e l'armaghera e l'AK47. Faccio il lancio, faccio la vie. Ah sì, aggiornamento si dice l'actualizzazione. Fai, fai la vie, fai la vie. Dentro lì. Vado a poussare. Toto, due team, due team, due team, lupo, vai. Vai, vai, vai. Adesso vado. Eh, andiamo sul lancio. Zì, qual è il problema? Che hai paura? C'è gente qua, rai. Oh, cambiami l'arma. Non c'ho un'idea. Si usava tanto tempo a fare questa, tatti. C'era uno qua, sul tetto di Nova. Dove è finito? Eh, scappato e l'ho ucciso. Nidox. Guarda, l'hanno distrutto da Nova. Cioè, si usa la prison. Guarda, guarda che belli là. Eh, lo so, il Tati. Ah, ne vado da qua, dai. Tante nutre. Che volete far pushare la prison? Qua sopra non c'è un Lodi. Non è terra molto di qua. Gente qua da me. Faccio up. Ho fatto kill Dallas. Frano che non mi ha preso. C'è uno che ci viene a sinistra, eh. Con l'RPG a terra. Quindi debù qua. Oddio. Oddio. Oddio, è presto, è presto. Yeee Che cazzo ha preso Divine Wow Pratmos Ho preso Divine Oh è fatti fatti Oh 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 Audio In volo Te lo lancio la nuova Mamma mia va Mamma Mamma mia Io ho Luffy ho tirato una Cichinata però si è ricorda Tota la vita Oh 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 Cosa amico E' un cazzo di lancio Regga Torniamo lì da qua Torniamo questa casa qua ce l'ho sottopreso bravo questo piastre io no non ce voglio crede ci voglio crede da fuori da fuori da fuori peccato peccato di giocare di intelligenza d'astuzio lì contro tutti di sottopreso contro tutti di sottopreso buonasera peppe che peppe di dio che dio ce la vanno di buona ma che è sto bordello un macello fra siamo in una privata ma la k a te non si muove da un millimetro no si muove ma non tanto lo mantengo io ciao lupo sono tirato zero stanta come è possibile che incontro sempre savi nelle lobby oggi nella sua vittoria gli hanno detto no no mi dissocio zio dai perché ti offende ma è normale perché la lobby è è comune a tutti sono un cretino sono morto cioè non è che perché uno magari è capato di 4 o 5 non puoi trovarlo in lobby capito e le lobby sono casuali non vengono fatte in base a radio sono lobby pubbliche puoi beccare tanto quello del radio più basso di te quello del radio più alto di te potresti beccare anche a me tu ti potresti beccare anzi è più facile con un radio basso o becchi un radio alto un po' lo sento su instagram dopo controllo tutto raga parco zio guarda questo gioco è rincogionito perchè è venuto direttamente qua fra come faceva a saperlo sicuro non c'è vabbè minchia è arrivato diretto lì o si ma se hai tossito lo può per questo ho capito ma era lontano ho visto la visuale era lontano eh si è sedito qui lì era lontano quando ho tossito non era dove stavo io eh no ma non c'è il prof vabbè cheater cheater fine ci ha preso un biscotti l'ho preso io red redemption no vabbè giuseppe giuseppe ha regalato un abbonamento ragazzi vi ha regalato un abbonamento alla community qualcuno di voi in chat se fortunato ha avuto l'abbonamento e il regalo ragazzi controllate le notifiche facciamo partire anche noi la gambro challenge a questo punto facciamo la beps challenge 200 abbonamenti e via e si fa la 24 ore ogni abbonamento un minuto in più che resto a giocare pronto? in ora pronto? bella raga bella ma come ha fatto quello a venirmi a piacere ma chi è oh? ma chi è oh? ma chi è? a te a te che mica sei venuto diretto lì ti ho sentito hai sentito tossire? no cos'ha ma hai sentito tossire? ho chiesto si ti ho sentito tossire ma che cacchio bravo ma dopo mi piglio una tachipirina allora niente ma ha sentito tossire ecco perché è arrivato diretto buonasera Francesco buonasera a tutti che hai ricevuto? non c'è credo aspetta non c'è credo no no non c'è credo no 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 aspetta forse non ci vedo bene non ci vedo bene aspetta forse non ci vedo bene cioè fatemi capire cioè tra i tanti tra i tanti Roberta lei ha ricevuto l'abbonamento di regalo ma lei sta un c***o coltita è poco due incredibile come ha avuto l'abbonamento di regalo è impossibile Bepte lei ha pentatolo alla figa Bepte Bepte ha regalato l'abbonamento alla figa complimenti complimenti fatti i miei complimenti però da una parte fa bene fa bene regalarla alla figa allora detto ciò vediamo se mi hanno l'invitato eh hermano mi muestro è chiaro chiaro assia ora te lo muestro bro dai un momentito dopo c'era uno squadrone che ti stava insultando diceva che ti giocavi le chiavi di casa davvero davvero mi insultava no però fra ho fatto delle giocate sottoprise me ne sono tirati non so quanti fra una marea ero rimasto da solo bello furbo questo a giocarci le chiavi di casa bello furbo mi sto allenando però a giocare le chiavi di casa mi sto allenando questo è se la k è questo qua è se è stato così buonasera luca garante beps comunque dai dai buonasera nicola buonasera a tutti ragazzi adesso andiamo a giocarci di nuovo le chiavi di casa ok tenevo un ruttino da fare è venuto silenzioso meno male si vede si vede si capisce sono 5 accessori non è niente di particolare la capina adesso aspetta che devo entrare nell'invito che mi hanno mandato altrimenti panico totale vediamo se riusciamo finalmente a stare dai che mi gioco le chiavi di casa zio c'ho la lamborghini me lo stava dicendo che uno mi insultava perché c'avevo una sega allora sto un attimo qui finché non entra armando il lobby poi gli lascio subito il posto per me non avete la squadra va bene va bene va bene ma qua mi dicono che io mi stavo giocando la chiave di casa ma è un palio una lamborghini in questa privata e no una lamborghini no ma mi hanno detto una bugatti dell'ultimo modello quello che deve uscire che c'è mio cugino che c'è mio cugino che c'è mio cugino va bene va bene allora spostati ragazzi il vostro presidente mi ha detto di spostarmi mi tolgo perché se no mi viene a cercare va bene non vorrei che la sua casa finisse in rovina prego prego no 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 infatti ho paurissima raga gigi buona serata è scappato via è scappato via pronto pronto uzzone in corso attendere prego non ancora non ancora tra un po' tra un po' l'imbugnatura dell'armaguer certo ma te lo dico stesso io l'imbugnatura che sto usando anzi mi hai dato un'ottima idea perché su questa classe ultimamente non stavo più usando i 72 ma i 60 e la scanalata comunque sto usando l'impugnatura scanalata comunque veramente Daniele puoi parlare ogni tanto normale fra capisco che ci stiamo divertendo ignorando e tutto però mi raccomando allora come siamo messi è arrivato Batman no c'è Batman ma ma scusi chi è questo che aveva detto il fatto delle chiavi ma l'avevo killato sì no no in realtà non penso in realtà non penso ah ma stavate guardando me poi a un certo punto sì sì ah ecco avete visto la roba sotto prison no perché non stavo guardando io no c'era Divine che guardava prova 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 ora mi sentite sì 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 ti sentiamo non dovresti sentire nemmeno echo credo forse no prova 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 no non sento più echo cosa è cambiato eh lo so ho cambiato che se le cuffie sono wireless è una cosa eh che cosa ha detto dai ragazzi non si sa si è capito solo lui le cuffie sono wireless le cuffie sono le cuffie sono non si è sentito più le cuffie sono morte boh ah Daniele mi dicono che nelle altre live ti stanno bannando tutti fra aia aia ti sei già fatto una bella reputazione mi dicono quale live e a chi soprattutto no sono certo Daniele allora strano che non l'hai ucciso perché hai fatto tutti a prison non lo so forse l'ho killato probabilmente magari loro no loro no non l'ho beccato forse quello l'ho killato eh fate due domande date due risposte calcola che non sei invisibile cioè nel senso ti vediamo tutti eh tutti noi in chat tutta la community ti legge e ti vede stiamo seguendo dal reparto oncologico del monaldi no grazie per averci compagliati di nulla oh iata sono le no no sono un attimo a parlare in chat ci sono allora che ore sono dalle 23 da là oh innanzitutto buon lavoro e grazie sempre del lavoro che fate mi raccomando dai un saluto a tutto il monaldi pronto pronto ciao mi hanno banato e don vediamo di non farci bannare anche qua cerchiamo di io sono propenso all'integrazione sei sei qua piano piano stai capendo come bisogna comportarsi comunque in un contesto perché siamo siamo in tanti ecco siamo in tanti quindi in un in un gruppo in un gruppo grande quindi scherziamo tutti tra di noi scherziamo tutti però sempre un attimo con con concezione ah in realtà siamo pazienti ah ah allora buona guarigione assolutamente allora dite dite insomma chi vi assiste lì mi raccomando trattateci bene se no arriva lupo bianco ah sei starsky ci vediamo contro starsky mi raccomando però tipo c'era aspetta chi è che lavorava non mi ricordo il nome c'era un altro l'ospedale c'era un ragazzo che lavorava in un ospedale non mi ricordo il nome che ogni tanto che fa le notti comunque qua sempre di napoli ma non non va chi è don la cappa è buona raga lo sto provando mi piace sincero secondo me è utilizzabile andiamo dove andiamo Alex pure lui però non di non credo sia di Napoli forse mi sbaglio per andò per andò bella Luca andiamo andiamo a morire in grazie l'ho hittato però non c'ho l'arma a lunga distanza sono due sun sono due, uno hittato ma sono un sacco ha craccato uno mi ha dato assist ha fatto uno brava brava mi senti bravo? si buongiorno no io non mi sento andai a qui brava sono nella cacca tre due sono due beh dobbiamo recuperare sta partita troppi mi hanno sparato in troppi ma era uno da dove sono comparsi in 40 minchia in quattro mi devono addossare oh manco manco ci volessi ributta fuori così mamma mia fuori nella discoteca buonasera krizna c'è uno su prison eeeh sono morti non ancora qua stanno non morite non morite li facciamo tutti ma non il divine ne hai due sotto il due sotto proprio sottopriso sottopriso dove sta dove sta divine al boccione ma perché perché non andiamo andato andiamo andato dai andate la andando l'ho detto vuoi fuori a sinistra è andato sotto head è andato sotto head sotto head è entrato il cash raga Vabbè tengo io rispondo dai Ancora Non so se te posso salvare Eh infatti per salvar te Io mi devo fare i cazzi miei Ogni volta Ultimo di tramonte Buono 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 Là non ti potevo salvare Perché lo sapevo che c'era quello là sulla torre Perché avevo sentito i passi No un altro team Un altro team Sì vabbè vai No e ce n'era un altro Peccato Peccato Mamma mia datemi il tempo Che prendo la posizione giusta Con il lancio E' tornato Bamba Ma non è stanco Bamba Sei stanco Bamba Sì 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 La lavanderia Qua sotto qua sotto Vieni vieni Sì 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 Prendi anima Uggun Tutto atto, tutto atto, ancora attento E ne ho buttati Nooo, era quasi one shot No vabbè che cos'hai fatto? E' da solo, vieni, vieni Stai entro qua? L'altro sta arrivando a lui Stai arrivando eh, non ci sono io da te Eh, stai pronto Lo faccio io Sì Non ci sono, non ci sono io Sto con te io, Dupo Arriva, aspettavi un attimo Sì 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 No, sto fight l'abbiamo perso brutto eh Io in primis, non ho sparato male Davanti, davanti Peccato, peccato In teoria mi parevano che i 60 fossero più forti però No Sto salendo l'altro, è salito l'altro Lo fai tu Grazie Aspetta che mi servono Mulizioni che le sto finendo L'altro che si fa? Scappa? Scappa qua sotto? Vabbè l'ha fatto Vabbè l'ha fatto La prison mi pusha La prison mi pusha Top 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 mi mira Top prison 1 è venuto da voi in bolo eh Verso prison Ma dai ma non c'è chi non è da contro Per la condivisione Te lo sto pushando Quattro eh Ti putta verso l'idea Arma a scaletta Appena sceso Niente ma visto Su control raga 3 C'è la terra E' tramonta E' buttato Ciao tramonte Prossibile Preso non c'è nessuno Dov'è l'altro? Dov'è sta la stazione Di scambio armi È salito Dov'è l'altro Bella 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 GG GG let's go GG let's go E' tramonte Se ne è scappato sotto Io l'ho inseguito Ah però vado a girarsi Non ce l'ha fatta Povero tramonte L'ho killato alle spalle Buonasera Angelo Buonasera Michael Benvenuti a tutti Ma lo voglio sentire A fine partita Allora Vediamo un po' Dimmi Perchè? Tramonte SMA Tramonte Ma tramonte Quanto è bello Killarti Tramonte Ma zitto Ma cosa volevi fare Lì dietro Ma no Io aspettavo Che rinasce un altro Ma chi è che ha detto Che è smh Ragazzi Sampra Ma svegliate Buongiorno Ma citta Ma citta Zitto Ma chi? Mamma mia Trabonde Cheater Attenzione Partono Attenzione Che qua partono Le accuse Ternalopo Mila ci setagge La K Certo Certo E questo qua La K Allora No scusate Questo è l'STG La K Non ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Qua E questo qua Cioè È facile 5 accessori Non è difficilissimo Trabonde Ha preso Biscotto Eh sì Ha preso Il biscotto E mo E mo Arrabbiato E mo Arrabbiato Vuole la vendetta Signori Vuole assolutamente Vendicarsi Dopo che ha perso La partita Ah Che soddisfazione Claire Tramonte Allora Vediamo Appena vi invitano Si parte Andiamo da Batman Dai 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 Invitateci Devo fare un'altra kill Su Tramonte C'è stata C'è stata una ragazza Che ha detto SMH complimenti La mia ragazza In chat No 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 Signori Divorcio Immediato No Ragazzi Ciao Sono più impazzito No Mi dissocio C'è la saretta Allora No Tramonte Vuole vendetta Mi dissocio Allora KG e meta Assieme ad arma guerra Si però Ci ha invitato Io vado Non mi piace Troppo È un pochino lento Perché C'ha poca mobilità Secondo me La K Non è male Tanta roba Oh no Cittate Tutti e tre Cittate Vergognatevi Adesso Ma che ha detto Barbie Della ragazza Che ti ha detto Eh Ha detto Che Ha detto Donne State ai vostri posti Che il biscottetto No Vabbè Ha detto Che praticamente Adesso Chiede Prende l'avvocato Chiede Prende il divorzio Il divorzio Sì 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 Parazione dei beni Cose Cose Allora Mo Assolutamente Deve entrare Tramonte Che Vuole la vendetta Lo devo killare Ah È entrato Curly C'era pure Prima Ah Non l'ho Non l'ho Beccato Franco Non l'ho Beccato Contro Di solito Lo becco In pubblica Tu non l'hai Beccato Sampra L'ha beccato Tre volte No Io lo becco Spesso in pubblica Però c'è sta Uno di loro Lui gioca sempre Con Piotr Clover È un quarto Che non è Quel The King Gioca con uno Che ogni volta Fa il tossico Contro di me Mi spara Sul cadavere Ah Ho capito Chi è Quell'altro Sicuro è qualcuno Gatti Che tocca Nel nome Uno Uno di quelli Mi spara No No A volte Gioca anche L'altra volta Era con Vizza Erano Piotr Clover Carly E Vizza No Non era Vizza Non era Vizza Però di solito Quando non c'è Vizza Giocano con un quarto Che fa il tossico Allora Un giorno Giochiamo Farà 100 euro Su Paypal Allora Dai 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 Guardi Siamo a 27 Mi scrivo a Piro Se viene pure Piro Ci divertiamo Eh siamo in privato Privata Volevo dire Siamo in privato Ok Stiamo a fare Ste donne No Aspetta 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 Ripeti Ripeti Sta cosa Che non ho sentito Questa voce Certo Anche il presidente Anche Mattarella La conosce Allora Ste donne Che dobbiamo fare Barbia Che dobbiamo fare Ma Tu mandale da me Ci penso io Ci penso io Le sistemo io Faccio tutto io Non ti preoccupare Ci penso io Il canale Il canale Facebook Allora Hai dato il sonnifero A travolta Io lo sto aspettando Eh Mo in teoria dovrebbe entrare Anzi mo lo invito Proprio io Dov'è Oh è entrato È entrato In che squadra è Allora Ci sono un po' Del team di G Ah C'è anche Cuba Libre Ah Eccolo la tramonte Squadra 5 Perché squadra 5 Ah no Si è spostato Squadra 8 Ok Eh si Calma Calma Nome e cognome Allora Mo Allora Quella che Quella che dici tu In questa privata Mo ti faccio dove dove è Non c'è più C'era Dove è finita Eccola È squadra 10 Non so se si legge il nome Se non si legge il nome Faccio così Si chiama La Saretta Eccola qua Non so se si legge il nome No non si legge manco da qua Vabbè te lo dico io Si chiama La Saretta Allora che dobbiamo fare? Meh 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 Perché siamo di meno Avviato 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 Non ci voglio credere Ma tu l'hai staccato Ma ti fatti roba Lupo Ma anche a te Non sta andando bene La live di Facebook Oh a me va bene Ok Ma Ma Io queste cose Non le capire Non capisco Non capisco bene Meh Meh Ok Meh Meh Vediamo Vediamo se facciamo Divorzionare No No Il socio Senti Mi sparo Una puzzona Va nel frattempo Che sono Nel chilling Ah A me non va male No però All'altro giorno Mi dicevano Alcuni mi dicevano Che stava andando male Perché stanno a fare un po' di Mi hanno detto Che stanno facendo Dei lavori Sulla piattaforma Quindi praticamente Ogni tanto Potrebbe dare problemi Buona sera Francesco Eh dipende Fra Ho sentito Quelli lì E mi hanno detto Che stanno facendo Dei lavori Sulla piattaforma Gli ingegneri Quindi Boh non so Se i partner Abbiano Un canale A parte Dal quale Passa il segnale E magari Ai partner Va un po' meglio Quando fanno Sti lavori Non lo so Non te lo so dire Però Stanno a fare Dei lavori So Andiamo 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 Baby 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 Ma Sì Sì Andiamo a bagno Di nuovo Ma a prendere Gli schiaffi Ma quali non mi sembrano Tanto i bagni Bro No Il pompa No Ma ha dato Soldato nemico In arrivo Chissà dove è finito Vento in fondo Uh quello mi serve Abbiamo i soldi Abbiamo i soldi Andiamo al carrello Su Bado Quanti soldi ha Ma ne ha tanti Vedi se c'è un UAB Dai 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 Andiamo Dove stanno Stanno tutti Ed Nova E living In fondo Sì Un'altro UAB Io ce la Adesso lo butto Eh la casa Quella lì Della torre E' complicata Sono in quattro Sono in due Questo Quello che è passato In altro In the water Stanno sulla torre Niente Niente Stanno sotto Al living Eh Vabbè niente Vuoi andare Però Mossa sbagliata Perché poi Rimanevamo bloccati Oh ma fate uno Quei cazzotti Dietro No è entrato Ma ha fatto Dai quei cazzotti Andai là guarda come son morto Ma che pagliaccio Guarda E' il tipo di tramonto Qua sotto No Non va a terra One shot qua Andata 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 Cazzo Ero venuto da te Poi ho visto dopo Che c'era un team E non c'era un team Anche a stronghold Eh si eravamo troppo Separati Sì stanno giocando Torneo Sì stanno Uniti C'era pure noi Uniti Solo che lancio Ma è un casino Ripugliarlo Uno sul tetto di prison Ce n'è uno sul tetto Mi deve distragare C'è me l'arma Eh io non c'ho le armi Fra La top scalotte Sì stanno giocando Dai 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 Tuo 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 Una a terra Ah solo uno Ho dato la kill Uno contro Alcuni stanno allo shop Prendiamo una piacca E bruciamo Devo prendere le armi di queste Che io le me le ho perso Se mi leate tutti i soldi Possiamo fare una via Sto vabbè No One shot one One shot one Scale Fatto Fatto Ferito Quanto ferito Confermo 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 C'era un altro C'era un altro Che mi buscio sotto Che c'è ancora l'h4 Boh Contro 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 C'è gente Craccato Crisi è one shot Craccato un altro Non mi confermo 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 Quanto Una a terra Una a terra Confermo Contro Raga Ma Mo salgo Mo salgo Mi sta ancora Minando Col cecchino Fatto Uno fuori Devo tremare Devo Scendere C'è gente Contro Quanti Eh no Lo so Sedito Uno solo Di pass Fatto Era Saretta Mi cago sotto Come mi cago sotto No no Guarda dove era quell'altro Ah ha fatto bene Ha usato lo spottino Bravo ma non ci so lui Non ci so lui Nello spottino Con le armi là Torno eh L'ultimo L'ultimo è sotto In età L'ultimo è sotto In età L'ultimo è sotto Eh ma l'hanno killato L'hanno killato da sopra prison Cato uno Sono troppi Sono troppi prison Non si può Non scendo casa verde No infatti pure io scendo Dai dai Assurdo Continuano a spararmi Sopra 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 gg altri di nuova no no mi ha messo one shot quello da sopra è rimasto batman bella norman buonasera buonasera giuliano pronto pronto benvenuti ma c'è una privata con un po' varie persone anche alcuni che di solito becchiamo in torneo contro wow ciao ne a me mi ha fatto questo qua dark dark joe qua a me dark joe mi ha fatto mentre stavamo pushando sotto mi ha sparato al tetto di nuovo qua oh eh a me si ma perchè mi ha sparato da sopra mentre ho fatto quello sotto che aveva fatto sanfra raga questo bimbo fa tutto il fatto con i miei banzi ah ha vinto ah ecco perchè non sbagliano un colpo mi hai montato roba nel pad mi dissocio no no mi dissocio mi dissocio mi dissocio mi dissocio va bene dai bella bella partita comunque potevamo vincere anche noi questa mi sa se noi avevamo quasi fatto fuori questo team io e san e mancavano in due ne abbiamo tirati via due o tre addirittura a nuova c'era un altro di voi avevamo vinto il fight qua vincevamo noi c'è peccato gigi è luco bianco si pronto che è successo ma anche di meno trattami meglio luco bianco io non lo so ma perchè che ho fatto io non so niente mi tratti male ma non è vero non ho fatto nulla ma si ma... mi hai tirato 12, 15 volte no io ma quando va io mi ricordo che l'ho restata l'ho aiutata chi è? chi è? chi è? pizzo ah mannaggia come dobbiamo fare come come dobbiamo fare come dobbiamo fare come dobbiamo fare ah c'ho più Lupetto Sempre tu sei Tra attivare la jet Mares your friend Shit Oh non ho fatto nulla Non ne so niente io Oh Ho fatto ora bere una lupacchiotta Vabbè Nel caso in cui Se qualcosa Non ero io Era mio nonno Aspetta Era mio nonno Nel caso Vedi Non sono io Ezzere il nonno Il nonno lupo bianco Ezzere Lui non aveva fatto niente L'ipotino mio Ezzere io Ezzere un poco Mattacchione Ezzere un po' gattino Capito Fai il bravo lupo Masca al zone Oh Ciao Anna Guarda Ho giocato anche con la chat Quando è stato Penso due settimane fa Ho giocato tre giorni di fila Ad ora di pranzo Diciamo che la sera È un po' complicato Perché sono sempre impegnato Tra team Sostenitori Altre cose Tornei E La sera di solito Gioco con chi Non tutte le sere O il giovedì O il mercoledì Poi dipende dai miei impegni Gioco con Chi è abbonato al canale Però Quando riesco Che attacco anche Il pomeriggio Diciamo volentieri Non mi hanno invitato Non mi hanno invitato Chi è successo? No Si è abbonato Diciamo che per Squadra 10 Vado No Che squadra 10 Che squadra stanno? No È entrato anche Revexity Sì Vabbè È entrato anche Revexity Sì Esatto Allora Facciamo così No Veramente è diventato Un torneo Fra Adesso è iniziata Entra la gente Prepotente Guardate Guardate la squadra 10 Dov'è la squadra 10? Revexity S'cross Sì Vabbè Vabbè Dobbiamo giocato al torneo Dicevo Francesco Grazie mille Per l'abbonamento Benvenuto Attenzione Anna Potresti essere la fortunata Potresti essere la fortunata Perché ha regalato Francesco Un abbonamento Un augurio per un buon game Speriamo Dobbiamo vincerlo Però è entrata gente Ancora più forte adesso In privata Vedi un po' Ragazzi Controllate un attimo Francesco ha regalato Un abbonamento alla community Qualcuno può essere fortunato Potresti essere tu Anna Allora prima L'abbonamento L'ha avuto il regalo Un'altra ragazza Roberta Io spero Che l'hai ricevuto Anche tu il regalo Vedete un po' Chi l'ha ricevuto Nelle notifiche Era finita la sub Sì È regalato anche un abbonamento Però bro Ti prego Dimmi che è finita in mano Ad Anna Così Se fanno qualche partita O più tardi Se finiamo di fare un po' Quest'allenamento O domani Nel caso Chiedo la chat Bella Alex Buonasera Che è successo? Dimmi Stavo parlando Nanti in chat No no Parlavo con gli altri Ma non sento nessuno No no Ti sento Ti sento Chi ha avuto l'abbonamento? No Ha avuto il regalo Michele? Praticamente Aspetta Mo ti dico Perché Michele è arrivato Mo Una notifica Dice che si è risolvato Per il secondo mese Chi l'ha avuto? Non ci credo L'ha avuto Michele il regalo Però Però Attenzione Attenzione Perché Perché Lì non ha regalato un altro Si vede nelle notifiche Dovrebbe arrivarti una notifica Se l'hai avuto tu il regalo O nelle notifiche O sul cuoricino verde In chat Io non ha regalato un altro Potrebbe essere arrivato a te Grazie mille Nino Per l'abbonamento il regalo Passa pubblicità Oh io sto cercando di Di dire Brioche congelato in corso No E che dopo Come si chiama? Ci sono dei team Che fanno paura Eh lo so Lo so Diciamo che dopo Che dopo Aspetta Che mi ero perso dei messaggi Dalla brioche Dopo magari me lo mangio pure congelato Vediamo E che cos'è la scoteca Incredibile Non l'hai ricevuto Anna Pronto Attenzione perché anche Davide Anche Davide Anche Davide Zuzio Un altro abbonamento alla community Regalato Sono due Mancano due abbonamenti Da riscattare Uno di Nino E uno di Davide Raga controllate Raga controllate Nelle notifiche Grazie mille Davide Eccomi Andiamo Non sento fra raga Combattiamo Persene un po' la td Stasera Sento fuori razza Con il ragazzo Hai fatto bene Bravo Grazie mille Fra c'è Chi l'ha avuto il regalo C'è 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 Cosa mi sa che entramo Vabbè raga No dovremmo fare una challenge Che tipo ad ogni sub regalata O devo fare No non vorrei copiare sub Però Dobbiamo fare Ok magari rimango più tempo in live Ogni sub regalata Rimango più tempo in live Tipo Eh no Perché già savi Si è inventato il fatto Del ogni sub Deve fare un dot kill Non lo voglio copiare Quindi potremmo fare Che invece Io ogni sub regalata Rimango Che ne so Tipo 10-20 minuti in più In live Resterò qua 48 ore Tipo Ecco Cos'è Il problema è che Su facebook Non hanno ancora inventato Una roba che tu puoi decidere A chi regalarla Purtroppo è Randomica La cosa Carli sul lancio Carli sul lancio Mayday Mayday One Terra Sì Devi accettarlo Fra Devi accettarlo Simone Dura un mese Poi si leva da solo Posso prendere il lancio Posso prendere il lancio Sì 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 è una privata Torian Atterra bot Atterra bot È del team No Si chiama bot Si chiama È l'amico di Tramonte 500 Sono pochi 20 minuti per una sub Invece no Bro Sono anche tanti In realtà One shot qui fuori Alvatemi In realtà Perché vedo un po' in giro In realtà Quando regalano solo una sub Fanno 5 minuti E in più in live Se dovessi mettere 10 o 20 minuti In realtà è sopra La media degli altri Di solito Per gli altri vale 5 minuti Una sub Va bene Va bene No Uno sotto prison Fatto C'è l'amico Lo sta restando Lo sta restando Sotto le scale GG Bello Bello BGG Bella Bella Torno C'ho le armi lì Ma lo sai Ma è guardingo il fratello Ma è il fratello quello Non è guardingo Giusto Sul nova Guardingo Non è guardingo È il fratello No no È il piccolo È il piccolo È il piccolo È il baby guardingo Craccato uno Sul nova Due craccati Sul nova No Chi è questo dietro di me Non si sente Di passi Tanto è uno È uno solo Mentre sparava a quelli di nuovo Amaghillato Non è guardato la mia arma Ah è guardato la mia arma Incredibile Fatalata Ho fatto Ho fatto il fratello di wardingo No Mi ha detto Gigi lupo Ti devo dare la tua arma Bro Solo che me l'hanno inculata Non so qual è più la mia Va tranquillo No a Divine 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 Sta qua la tua No no Tranquillo Ah ok L'ho malarie Sparalo Stanno sottofanno Non ci credo Sun Ce n'è uno lì Ce n'è uno qui A lancio Atterra Uno sul lancio Binato Quanti sono nova Bombardamento Da nova Ci pushano Ci pushano Ci pushano Atterra Questo qua sotto Che pigato Sotto nuovo Sotto nuovo Sono già entrati Eh sono one shot Eh sono morto Anch'io Comunque quando si assiste a questo torneo Siamo di vedere le corse di formula 1 Sono velocissimi fra Sono velocissimi qua No è morto anche No Orca miseria Zio Vai via lopo vai via Eh dove vado fra Non posso andare a nessuna parte Mi devo camperare e basta Non è che vado via C'è uno sotto Adesso mi entrano qui Voi non venite qua Oh ma perché mi rubano Controlo vuoto eh Vuoto eh No 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 non ci voglio crede Eh ci sta Peccato peccato Lancio non è prendibile No Torno 14 secondi Torniamo in due Taglie Uè blues Buonasera blues Comunque ragazzi Mi hanno detto Mi hanno detto quelli di facebook Che a volte non arrivano le notifiche Ci sono un po' di problemi Sera Grazie mille per le 100 Stelle blues Ho ringraziato Davide per le 500 Che Forse mi sono dimenticato Mi sono dimenticato Davide Sorry eh Se mi sono dimenticato Eh ricordata Me lo sei mi dimentico Grazie mille per le 500 Che stavo a dire Ah che se non arriva le notifiche Ho scaricato tipo facebook gaming L'applicazione O O vedete se la campanella è attivata Ti sei dimenticato Eh Ricordatelo Ricordatelo Lo sto anche stonato E one E one E one Bravo Era da solo? Come sono le mie armi? Sei incurato le mie armi? No Io ho una marco E io qua avevo le mie di armi Non ci sono più No no Io ho una marco Ah aspetta Sì perché avevo la marco io Eh allora è quella È quella È quella C'è gente sopra Eh non te ne andà Non è one shot No ma ci sono botta Ma ci sono botta Non è una tramonta Però Castriano non te le posso preparare Perché è il tasto rotto Te lo giuro Te lo giuro il tasto rotto Ho capito Non l'ho ringraziato E se lo potete Tenere in giatti Non me l'accorgo Porca Discord Mannaggia la miseria È la notte di San Lorenzo Giustamente le stelle È vero Bru Lupo le stelle Lupo le stelle Ah Aspettate Aspettate Dove Aspettate Ma in realtà In realtà Il nonno Non ci vede In realtà Il nonno Vedi Non ci vede Ha bisogno di occhiali Eh Non ha visto Neanche i commenti Non ha visto Lupo le stelle Lupo le stelle Era anche fissato In alto Avrai 700 commenti Con le stelle No E ho capito Non avevo gli occhiali Non ci vedo Il nonno Non ci vede Senza occhiali No scherzo No non è vero Sto controllando Erano 500 di Davide E ora 100 di Blues E basta Allora Gianluca Allora Io sto usando adesso Delle cuffie Un po' particolari In realtà Sono per produrre musica Si chiamano Le AKG 242 Tipo Sono delle cuffie Per musica In realtà Le uso perché C'è una scheda al pc Legata Cioè Tutta roba Per fare musica Quindi la uso Anche per giocare Non è vero Noi gente seria Come post it Funzioniamo bene Lupo le stelle Signori Le mari Lupo le stelle La stelle Mi trovo non c'è male Diciamo che il gioco Dovrebbe proprio migliorare Il livello Il reparto audio Perché Se vado io Secondo me Sistemo meglio le cose Però Diciamo che per esempio Quello che mi ha ammazzato prima Che mentre sparava a 9 Non ho sentito un cavolo Almeno io Poi magari il live Si è sentito Non mi sono fatto caso io Però ecco In altri code Mi ricordo che sentivo Molto meglio i pass Si sente discretamente Ma il problema È del gioco Arma guerra Con 60 colpi Vitale e frangibili Devo provare I 60 li ho messi E i cittadini Le gofie No in realtà La verità che stanno tutti È che in realtà Questi occhiali qua C'ho il wall hack C'ho il wall hack Qui Però mi sa che Per attivare il wall hack Vanno messi così Tipo al contrario Capito Vanno messi così Le stelline di vitello Certo vanno benissimo Ah guarda come vedo bene Guarda No peccato Vedo benissimo Potrebbe anche essere Però mi sa che Nella visuale Non c'era Io nelle impostazioni audio Ce l'ho su mv Quello va bene No audio mono no Levalo Non va bene Però Devi assolutamente Mettere Guarda qua Qua in audio Devi mettere Mix audio Mix audio Deve mettere home theater Per sentire meglio Buonanotte Buonanotte Francesco Buonanotte Bru Chi ha vinto Allora sta partita Chi ha vinto Chi ha vinto Chi ha vinto alla fine Di nulla Di nulla Aspetta Non sento Fra l'elicottero Fa un rumore assurdo Che hai detto Ma non c'ho bisogno Dell'F10 C'ho il pulsantino Che mi leva Lato Stelle Lupou No Ah vedi che ha parlato Stavolta Vedi Se scrivete Un commento Abbinato alle stelle Però deve essere Minimo 100 Se no non parla Se praticamente Ecco Mandate 100 stelle Più un commento Un minimo di 100 stelle Lui Prondo 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 Prenderete il premio De l'opera di cazzo Scherzo No No Ma portate un po' di te Signorina Gratisci un po' di te La carrozza Regine Elisabetta Ho qui una principessa Da sposare Prego 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 Fate passare Il tappeto rosso Dove è finito Bravo Dark Viva le seghe No No Bravo Dark No 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 Che sta succedendo No scusatemi un attimo Perché è successo un attimo Un quarto d'ora di scomodo È successo Quello che Quella Quella Sono impazziti Sono Sono impazziti Stavo dicendo Dissoggiare il gruppo Dalla regina No No Ha bisogno del tappeto rosso Poi quell'altro Sono uscito Viva le seghe C'è No Sto Scammando Stavo dicendo Vedete Bebs Ha mandato il messaggio L'ho sentito in cuffia Grazie mille Delle 145 stelle Pezzo di fango Solo che È tutto successo In un momento Lui manda le stelle Quell'altra che fa Vede rotto il caco Quell'altra che fa Fatevi le Eh c***o C'è Tutto in un momento Non ha scammato il messaggio Il bot Io l'ho sentito parlare Oh Si Ah aspetta Si vede che Non si è sentito in live Perché c'era No 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 Te lo giuro Che io l'ho sentito Lu Paul Le stelle È Stella 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 Ha finito No 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 Te posso assicurato Lo giuro Con Bebs Ha parlato Io infatti mi sono girato Quando ha parlato Verso la chat Perché Non si sentiva Forse in live Perché c'era il rumore Dell'elicottero E del gioco Ma te lo posso assicurare Che io in cuffia L'ho sentito La con Bebs Non l'ha scammato Stavolta L'ha sentito Almeno io l'ho sentito Fuori da sta partita Via fuori Tramonte Fuori da sta scuola Allora Tramone Se vuoi Vieni live Un bello 100 euro 1v1 Buono Ci sto anch'io Ci sta Di merda No Ma no Eh signora Signora Tramonte Vuole anche lei Il tappetino rosso Con un po' di tè A tavola Eh Questa è niente È niente Ciao 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 Attenzione Davide Davide Bambola Ciao Bambola Davide Grazie mille per le 700 stelle Bro È impazzito È impazzito Il botto No ma Vedi Michael l'ha sentito A chi Allora Eh Allora È una storia lunga Allora Avevo iniziato a streammare Non da molto Avevo bisogno di un team Ok All'epoca Alcuni gruppi di facebook Erano un po' meno tossici Quindi scrivo su un post Di facebook Sai Sono uno streamer Bla 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 Così Colà Non ho iniziato da molto K di tot Totto win Sto cercando di formare Una squadra che ogni sera Comunque gioca Mentre io sono in live Giochiamo insieme Andiamo a fare un po' di belle partite Eccetera eccetera E mi risposero vari ragazzi E mi rispose anche tramonte E così ho conosciuto tramonte È stato uno di quelli Che ho selezionato Per giocare insieme Sì Perché non mi ricordo Chi conosce Allora Io conoscevo già Wordingo e Terror Però loro non c'erano sempre Quindi con loro È iniziato tutto con loro Ho detto Dobbiamo trovare qualcun altro Perché eravamo in tre Dobbiamo trovare qualcun altro Per giocare Ogni volta in quattro Cioè A volte mancava Error A volte mancava Wordingo Ci troviamo in due O io da solo Ho detto Troviamo altre persone Che brave come noi Che facciamo una bella squadretta Che va a fare vittorie A giocare bene Brave come loro Non come noi Dopo mando una segnalazione Ad Activision per te Allora No Quindi che è successo Praticamente Abbiamo fatto questo post Ho detto Ho detto a Wordingo Ed Error Guarda ho trovato questi qua Questi qua Proviamoli Abbiamo fatto un po' di prove Con Tramonte Ci siamo trovati bene Quindi Tramonte è entrato Poi è entrato Predator E E poi è entrato È entrato Frost E poi da Predator È entrato Zedrax E altra gente Vabbè Poi ci sono andati tanti In realtà bro Ma tu degli amici Di Wordingo No? Conosci anche Fire Hai giocato anche con Fire Forse qualche volta Ci ho giocato Però non era Sì Era Ma Sarà venuto qualche volta A giocare così Tanto per Capito? Non era Poi c'era Luke Fra Luke Luke fortissimo Amico di Error Sì Come no Lo conosco Abbiamo vinto una challenge Eravamo io Error Wordingo Luke Abbiamo vinto una challenge Di 100 euro Tipo Una volta In quattro insieme Era una challenge Non facile Dovevamo fare Tre ricercati Entro la seconda safe Senza usare veicoli Quindi dovevamo scappare a piedi Dovevamo fare tre ricercati E c'è venuto il mondo addosso Appena prendevo il ricercato Io poi lo dovevo pigliare Veniva il mondo addosso Non potevamo scappare E oltre questo 145 Oltre questo Dovevamo fare Mi pare 45 kill di team Più la vittoria Alla fine Vincemmo la challenge Vabbè io Saltai Spaccai tutto Allora E Quando fai E Invece devo Mo prossimamente Quando ritorniamo a giocare Mo le challenge Le faccio io Ecco qua Preparo l'asciugamano Un po' di Di camomilla Ti conviene Le challenge di Armando Una possibilità Per il record italiano No No Non sono così Le mie challenge Puoi chiedere a Savi Ultras Perché Savi Ultras Pelle Trek Compagnia cantante Le conoscono Le conoscono le mie challenge Io sono quello Che gli ha fatto fare La maggior parte Delle challenge Vabbè che ti devo raccontare Che ti devo raccontare C'è Savi che sta facendo La challenge Lo sai Sì Sta cambiando la challenge Allora Praticamente Era un giorno In cui stavo facendo Delle cose Mentre mi stavo riposando Anche stavo facendo Componendo musica Eccetera Ho aperto un attimo Un'altra piattaforma E ho visto che era in live Sono andato a vedere E stava giocando Per completare la challenge Era tipo a Meno 73 Era E a un certo punto Partono i saldi Cioè che ogni sub Valeva Due chili in meno Fra non si è capito niente Appena sono iniziati i saldi Hanno iniziato a donare Sub con la pala Hanno iniziato Ora vi ringrazio ragazzi Hanno iniziato a donare Sub con la pala Era arrivato a tipo A meno 400 Ho detto No fra Devo partecipare anche io Assolutamente Ho dato 10 sub No Perché si è stoppata Allora Mo vi ringrazio Visto che Si è interrotta la comunicazione Con Batman È cresciata la lobby Allora Davide grazie mille per l'eccetto Guardaci queste le E ma mo chi metti Ah Ma il commento Chi lo sta fissando in alto Si fissa da solo No Lo fissi tu Gioele Ma invitato Batman No Vabbè entro Vediamo da chi entro Poi c'è anche Bruce Con le 140 stelle È imbazzito No 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 È imbazzito È fritto il party Si lo so Che è meno 2000 Ieri io Sono entrato in chat Da Savi Ho detto A me mi avevano avvisato No Hanno detto Oh vedi che save L'improvviso Perché io ho detto I miei moderatori No ho partecipato anche Alla challenge Ho dovuto dare 10 abbonamenti Assolutamente Che poi lui Quando gli ho donato I 10 abbonamenti Quando c'erano i saldi Fa Lupo bianco No Che ci fai qua Ma tra colleghi Ci dovremmo capire Basta Non mi dovete donare Questo è sub Ma da dove sei uscito Lupo Vabbè E a me mi ha fatto Mi ha fatto ammazzare Mi ha fatto ammazzare Dalle risate E ieri quando i moderatori Mi hanno detto Purtroppo non c'è più il voto Di quella roba là Ma a me Mi ha fatto Cioè io sono colazzato Dalle risate E quando Ieri Mi hanno detto Oh ma vedi che è tornata A meno 2000 Ho detto Ma che state dicendo L'aveva quasi completata Come è tornata a meno 2000 Tornato in chat Io ho scritto Ma dimmi che non è vero È un pesce d'aprile Cioè per dire Hai scritto Tu 2000 Non è vero Stai scherzando E lui mi fa No non è un pesce d'aprile Non sto scherzando E ti ricordo Che hai contribuito Anche tu Mi sono ammazzato Mi hanno invitato Aspetta tutto questo Mi hanno invitato E io là Eccomi Ma hanno finito le private Sì 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 Andiamo su caldera Che mi devo Dai 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 E io mi devo allenare E quindi Io sono rimasto così Poi non ho detto più niente Io gli ho scritto solo Dai dai Forza Perché È assurdo Ma come fai A fare tutto Ma non tanto per le kill Ma tutti quei giorni Per completarla Perché comunque Ci sono vari impegni da fare Tornei Mo' ci sono le world series Cioè non è che dici Vabbè Una challenge dura Due tre giorni Sarà da otto nove giorni Tipo È macello Cioè io no Sarei già Ma avrebbero già ricoverato Sinceramente È impossibile È disumano Uh che è successo? Vedi che cosa abbiamo scogitato Vedi che cosa abbiamo Ah ho di PFB Eh però potrebbe Sempre potrebbe significare Un'altra cosa Che mi è venuta in mente Mi dissocio Allora No purtroppo Non l'hanno tolta Tra l'altro Mo' a breve Ci sono le world Il torneo World series Il torneo Mondiale Di COD Che si gioca qua Su Caldera Stavo dicendo Imbazzito Raffaele Stavo raccontando Questo aneddoto Grazie mille per le mille stelle Porco discord Gli ho messo Il incredibile Imbazzito Comunque è pavolo Non ho le plastiche pavole No io non riuscirei mai A farlo Dorian Cioè Dopo veramente Mi devono ricoverare Mi devo fare Oh mi devo fare Un mese di stop Michael grazie del follow Benvenuto Eh Eh In teoria Dovrei partecipare In pratica Mi manca una persona Sì sì È normale Siamo tutti e due Nella stessa family Lo conosco anche di persona Siamo tutti e due in ground Eh Doveva partecipare Divine Con noi Divine Ci sta ancora pensando Perché in teoria Oh ma allora Mi fai staccato Un nuovo Divine Io Devo vedere Fra Se capisco Come si fa Sì Facciamo il torneo Mi lo guarda Un tutorial Su youtube Wow Un tutorial su youtube Poi posso fare Un account nuovo Su cod Oddio ma che stiamo pazziando Porca miseria Buonanotte Raff Buonanotte Azzì Azzì Te devi creare Un'email nuova Vai su Invece di fare accedi Fai iscriviti Ti iscrivi con l'email nuova Ti crei l'account nuovo È fatto Non è che è tanto difficile Il tutorial Su youtube Non ha le armi Eh ho capito Che non ha le armi Eh giocherà Con le armi da terra Andiamo a pick Andiamo a pick E allora Che te devo dire Dividiamoci Dividiamoci Dai Dai Ti vai nel lupo Avete già vinto A terra Uno Lonnaggio mondo Nelle world series Devo fare 80 kill Il zio Che cazzo Che cazzo ci fanno Tre di loro Che si usciano Come i serpenti A terra Fatto 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 Ho due Sono già due kill Che è un botto reggente Che stanno a rubare Kill Sono sotto Sono sotto È al piano di sotto Non vedi che Stanno al buco Loro Qua sopra Qua sopra Bro Qua sopra Craccato Sta accendo anche lì Arrivo subito Buonasera Manuel Il balun Lo prendo io Vedi il balun No sono un cretino Molto Bombardato Ho fatto Ho fatto quello sotto Che cazzo è sta cosa Non so se c'è ancora gente Sto un attimo con la puzzola Rega C'ho tutta la web Ma che c***o ha Di vai Lupo dammi i soldi Prendiamo le libertiere Facciamo i mobbi Ok Ci buttiamo Direttamente Io però non c'ho munizioni Non c'ho quasi nulla Mi serve un attimo Come si sale sopra Dove stanno loro La corda non la trovo No Forse ho trovato un metodo La scala Questa è la scala Ho trovato la scala Vai va Ho trovato Ho trovato Buonasera Adriano Eh ma non c'ho le armi qua Per Vabbè dai Uso questo Non volevi l'elicottero Tu Vediamo se lo riesco a prendere Mezzo rotto l'elicottero Ma che facciamo l'elicottero Sì dai Facciamo le tossiche adesso Vai io prendo l'elicottero Vado avanti E noi andiamo a piedi Ma non pinga nessuno A me non pinga nessuno Buonanotte 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 L'elicottero L'elicottero l'hai buttato Ah Eh Eh E mo Eh boh mi sono buttato in bolo io Eh ma non c'è nessuno Buonanotte Non c'è Natalia La prende Io ho visto Uno che aveva Anche ha preso il ballone Andava verso Verso il 341 341 Vabbè lo riprendo dai Riprendo il ballone Ah stanno sparando Lo santa qua Dai sta sparando anche un altro team Da top Da top Da top Questa la casetta Fatto Da round Messo one Messo one Eh sono lontano io Uno l'ho noccato L'ha confermato Te l'ha data no? Bello Oh bombardiere Bombardiere Ho rubato la kill L'ho morto One shot Se l'ha preso lui Sette kill Dove stiamo? Sette io Sette lui Sei tu Oh È impazzito Plus È impazzito Blues È impazzito Blues Grazie mille per l'abbonamento Regalato Ragazzi Sony vi ha regalato Un altro abbonamento Alla community Ha regalato un altro abbonamento Controllate le notifiche No Ho messo con Porco Zima Ho messo la bandiera Mi ha conquistato la bandiera Lo sapevo È morto Tra È un full team Da lui C'erano Quattro Eh si vede O nelle notifiche Vi arriva una notifica Su facebook Oppure Schiacciando il cuoricino verde In chat A vedere Dico Noi 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 Bello il cuoricino verde Comunque Morto anche Batman No Oh mio dio Vai tutti spam di cuoricino verde in chat Se ti pusciano Se ti pusciano Aspetta Se non me lo devo pusciare Dai dai fai sta magia Arrestaci tutti Pronto Che è successo No No perché è stato rimosso un commento Perché è stato rimosso un commento Che è successo Ai attenzione perché Ai 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 abbiamo cura di viola va bene va bene Ma non era un numero di telefono No è morto è morto Peccato No fra Va bene dai Rifacciamo Italiano Uno bianco Abbiamo vinto noi lupo Quanto abbiamo vinto? Eh stiamo tipo sopra di tre E cosa abbiamo vinto? Un cacchio Uno a zero dai Uno a zero Batman Cosa vinciamo? Oh 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 Ma lei mi deve ancora 1200 euro 1200 schiaffi No Dai 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 Veramente mi deve ancora 1200 euro Sì sì ma io veramente dico 1200 euro Niente mi ha scammato Mi ha scammato Oh l'ha ricevuto Adriano L'ha ricevuto Adriano L'abbonamento eh Ma lo sai che in realtà In questa partita Mi sono trovato bene A K con Dove sta? La K Dov'è? Con la Blixen Non è male ancora la Blixen Win Altra sabi regalo Dai dai ci proviamo Anche se stavamo facendo tipo Un 2v2 Stavamo provando a fare Almeno loro volevano Gattuso voleva fare 2v2 Gattuso nella Blacklist Signori eh Adriano con l'abbonamento Grande Un sito che è di Digelo Io non so A che sito Se hai trovato tu E di che siti parli Ma Player come savi Come E le No Armai Io te lo dico per esperienza No io te lo dico per esperienza Matti che stai dicendo Una marea di stronzate Ma hanno fatto tutto l'account L'ultima volta Ma no un game battle Ma non sicuramente Ma non sicuramente Su game battle Matti capisci che stai dicendo Una stronzata Un conto sono gli account Come Z-League O CMG Che sono altre cose Ma no game battle Matti Su game battle Fino a me non ce l'hanno mai fatto Campionati Quindi è impossibile Che t'hanno freddo Account su game battle È impossibile È una cosa impossibile Signora aspettate Perché qua parte il litigio Parte il litigio Attenzione Parte il litigio E no ma Stavolta che ha tu Sull'appoggio Si deve litigare Perché Porco miseria Dobbiamo partecipare A World Series Però c'è D-Ven Che non vuole fare una cosa Dicendo Che se lo volete fare Ma Blix Ne hai ancora meta Tra le mitragliette Così come l'arma guerra No no ma ancora buona Ma io vedo Da vicino Quelli li ho fatti E li ho chillati Carateniele Buonasera Ciao lupo Saluto da Catania Bella Fabio Non lo vuole capire Zio Non lo vuole capire Ah zì Cioè Allora ma per farti capire No Allora aspetta Perché io questa Non glielo ho detto ancora A Milano Al Games Week No io ho streamato Tre giorni Ho messo Tutti i miei dati E le mie password Nei computer Del Games Week E ho ancora tutti I account Capito Cioè i computer Usati da mezzo milione Di persone Al Games Week Io ci ho messo I miei dati E c'ho ancora tutto Perché basta Saro un po' Di intelligenza Di furbizia Quando sono tornato Qua a Napoli Ho cambiato le password E tutto È la stessa cosa Sul sito Dopo che finisci il torneo Disattivi l'account Che è su Game Battles Forse elimini Non lo colleghi più Forse lo farò Anch'io Fra i computer Del Games Week Ci ho messo I miei dati Di Facebook Ho messo I miei dati Di Activision Tutto Una marea Di informazioni Fra E non mi hanno Rubato un cazzo Non mi hanno Rubato No di Facebook Ci hanno provato Di Facebook Ti dico Dopo che ho fatto Quella roba Ci hanno provato Ma non lo possono fare Perché avevo Già cambiato tutto E ho le doppie Attivazioni Ho le chiavi Con la doppia Attivazione Non lo vuole capire Faccio la miseria Una serie Emiliano E non ho fatto Sì ma è un torneo Del cazzo Esterno Non Game Battles Suggestito Da Activision E da altre cose Eh Sì ma è un torneo E questo lo stavo seguendo da un po' lo stavo seguendo Stavo aspettando un attimo che uscisse fuori Niente ragazzi vi spiego Per partecipare al torneo mondiale di Call of Duty Bisogna registrarsi sul sito e collegare l'account E lui non lo vuole fare Perché ha paura che glielo rubino Non ha capito che c'è stanno C'è sta gente che si è iscritta lì Savi, penso Moon Tutti quanti si sono registrati su quel sito Mo' vanno a pensare a lui a rubare l'account E non rubano l'account a un Savi poi Mo' pensano a lui, pensano Ok, tutti i pro del mondo Ci sono registrati su quel sito Lui non lo vuole fare Vabbè, niente, niente C'è l'elicottero sopra Eh, siamo in due Se Divine non si decide a fare questa cosa Siamo in due Non possiamo partecipare Sì, a me ci hanno provato varie volte Zio Uh, 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 chi è? Eh, c'è quello sopra Vabbè, l'ha fatto, l'ha fatto Sì, ma c'è anche gente sul lancio nostro, tipo È sulla montagna Vedo solo l'arma e spara È appena salita la montagnetta Eh, come ci sali su quella montagnetta? Dai, come... No, c'è anche il cavo fuori Stavo valutando C'è uno in volo che sta scendendo in teoria No, 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 no È Divine che non lo vuole fare Cioè, non lo vuole fare perché non si vuole collegare a quel sito E Gattuso gli stava spiegando che non ha senso quello che sta dicendo Come gli stavo spiegando anch'io Perché anche tutti gli altri l'hanno fatto È solo lui che non lo vuole fare Ma in teoria si... Ma non c'è più il Lodi Io l'ho lasciato anche le... No, no Dove c'è il Lodi c'è... Dove c'era il Lodi? Dove c'era il Lodi? Sono le tue armi Si sparano in fondo Ho scelto di venire con me Eh, regà O si convince lui a fare questa cosa O devo trovare un'altra persona Solo che inizia tra un giorno il torneo Aspettami però che sta arrivando Sono tre qua da me Dai, serpentino Boom Cecchino Mi ha cecchinato No, bombardamento Sono morto Sono morto Non mi ha preso Non mi ha preso Che culo Però mi ha tirato il gra... Mi ha preso ora Vabbè, non c'è credo Vabbè, dai Non c'è... Ma... Ma non ha senso Non mi ha preso Boh Aveva sbagliato a tirarlo Vabbè, sono morto Puoi provocare il nemico O prenderlo a sassate Meglio lo secondo Non la vogliono al fine Di spararmi un wallbang Ah Vabbè, mi faccio il culo Vabbè, che va Preparati Ormai già l'avranno arrestato Arrestato Che tu vuoi Non dite, sei fuori dai giorni Delle scale, bravo Non c'è tutto No Oh dai, come ho fatto A perdere sto fight Vabbè, che ho fatto Quello che è fuori, 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 fra L'ultimo Guarda lì, qua Non ci voglio credere, fra Non ci voglio credere Ma come si fa a perdere così Io miro quello Spara senza mirare Porca miseria Sto gioco A volte, paura No Vabbè Oh man C'è Ciao Vabbè 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 C'è una casa pari, non so la che è tutta volto in gaspida. che cazzo è vatto lupo che cazzo sta facendo c'è il lupo ragazzi che cazzo sta facendo ecco attivo lobo che cazzo sta facendo è trasciato arrivate qui stanno sparando sul cadavere nooo lupo minchia sei fermo una mezz'ora lo sapevi solo tu lupo ti sei preso due morti così come due morti si perchè l'offere è andata a ferrata lupo minchia sei ringrazio lupo minchia sei ringrazio andata in bagno nooo il torneo si fa su caldera però ma infatti mountain dovrebbe sta con me dovevamo andare io divine e mountain vabbè al torneo niente mi sono incazzato perchè avevamo preso una morte inspiegabile al gulag era andata in bagno ma aspettavo che le stavi eh ride è impossibile vincere eh eh però abbiamo un attimo questo problema ma vediamo se risolverlo dov'è il telefono anch'io quando mi arrabbio vado in bagno buonanotte manuel l'importante è che non lo sbagliamo ma sbagliato a arrestare ah sbagliato a arrestare vabbè dai basta con sta basta con sta cosa che stiamo a far al wager ma è vero che ci tiene anche smutati quindi eh sì ma cosa c'è di me te ne mutati stai cagando no 4 pp buono buono ma è pieno di gente è pieno di gente che è pieno regalo peccato eh ma guarda là sono in 4 sul monte guarda guarda chi è che sta citando questo che mo è tornato ma non mi pare sei sicuro come va la città scusa guarda un attimo ma mi pare livello alto comunque mi pare strano poi boe sembrano anche bravini non lo so boh rimanremo sempre con il dubbio vai 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 rimaniamo con un tentativo no diciamo che in bagno ho trovato un pezzo di cioccolata però tutto normale anche ora ti devi svegliare che devi fare che non stai facendo più e che devi fare se è mezza mi preparo e le esco e dove vai a scuola a mare a mare alle 6 e mezza di mattina no ci vuole dedication ci vuole dedication mi preparo che ci metti due ore e mezza a prepararti per andare a mare che devi fare per andare a mare alle 6 e mezza di mattina ci vuole dedication ha detto no faccio la doccia perciò mi devo svegliare alle 6 e mezza che fa un'ora di doccia che fai ti metti con le paperelle dentro la vasca da bagno fra no no fa la doccia il salvagente si mette nell'acqua salata capito mamma mia quante storie ma ma no io mi chiedo in chat ragazzi qualcuno si è mai svegliato alle 6 e mezza per andare a mare fra un'ora di doccia si mette il salvagente un'ora di doccia prima abitua la pelle per l'acqua salata aiutatemi non devo andare solo a mare ah no ma saranno cazzini no esatto che devi fare prima del mare no ma aspetta perché la cosa bella in realtà dirà no no io vado dopo a mare cioè vado prima a mare e poi dopo devo fare la cosa buonanotte vai prima a mare o fai prima la cosa boh ma prima a mare signori ma prima a mare poi devi fare la cosa però intanto si deve fare la doccia alle 6 e mezza di mattina allora mi dicono no vabbè bella Gennaro buonasera ma è del mestiere questo buonasera Giuseppe lavati direttamente a mare chialupo se vuoi ti do anche le credenziali per le palle oh ma senti ma perché non ti lavi direttamente a mare scusa ah aspetta 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 no no aspetta si è sgamato l'equivoco tu in realtà vai a mare in Sardegna quindi perciò ti sguigli alle 6 e mezza di Piala Aereo si fa la doccia vuoi vedere se non annega no no questa è la brutta ma neanche le 6 e mezza una bella doccetta con l'acqua salata l'acqua salata e da e da e da ti godo oh c'è Pippo e eeeh Pippo e Baudo Pippo e Baudo e capellone comunque Luca se tu sei abituato a lavarti a mare non è un problema mio no ma neanche che ti sveglia le 6 e mezza io capisco se ti svegliare e fare una doccetta ma la doccetta alle 6 e mezza di mattina per fare una doccia per andare a mare vai dalla fidanzatina alle 6 e mezza e poi alle 10 va a mare alle 6 e mezza a mare va più post come gli anziani alle 6 e mezza va a prendere il numeretto va a vedere i cantieri a mare e poi dopo poi raccoglie le cosse le delline ci stavamo facendo le risate oh stanno scendendo le cosse qua stanno scendendo le vuoi ti vai vanno a fare no ti vanno a fango e tutti uuuh sta dietro davanti stai mutati bravini peccaro dappero oh non ho tutti al vula Vai Fatto, vinto, vinto Si deve depilare Si deve depilare No, deve andare al bar a fare colazio Ah, al bar a fare colazio Eh, far indirlo sulla spiaggia o il cornetto? Dovremmo fare tutti quanti come fanno Che fanno? Quello fino a dei conti, no? Che c'è la piscina a cazzo Eh, aspettiamo che ce lo sponsori Piscina, ODP piscina Parti in piscina ODP ODP party ODP schiuma party Poi facciamo un po' di serate ODP schiuma party ODP schiuma party Ha bisogno di almeno una mezz'oretta Per piantare l'ombrellone Affettivamente Deve scavare il buco No, no Poi che fai? Fai il buco per l'ombrellone Non ci fai un piccolo castello di sabbia a fianco? Se deve portare la paletta Buonasera Danilo Fino a mezzogiorno non cresce, no Come fai a morti così veloce e scivolata? In che senso? Doppia Doppia cerchio Doppio cerchio X 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 Cosa? Sì, ho preso l'alto Ora va meglio eh Sì, molto meglio ma da me è un problema di connessione C'ho uno nel tunnel degli scavi di Pompei qua Ecco qua Uh, ma perché devi fare il tossico? Tossico? Ti ha sparato sul cadavere? No, stavo sparando a te Mi vergogno Eh, non lo so Where we can go, bro Potrei fare un UAV? Ma perché quell'altro si muta, zio? Uh Uh Ha capito che non ci stiamo giocando 40.000 euro? Ah si Toh Oh man Uno sul tetto, bra Cazzo è Star Wars che stanno fightando con noi Te l'ho lasciato a one shot Bello Star Wars Dio Brava Io devo venire a piedi Ma da quello dov'è, vado Torco di quel porco, perché mi ha sunnato? Cosa? E non lo so cosa mi ha sunnato No, no, no Forse hai i proiettili quelli la Mi sembra strano, però Ma prendi sto cazzo di paracadute, porco Non mi cambia la visuale Che era lì dove sono morto io? Non c'è nessuno là Meglio l'STG mi sta su caldera e non la K La K da lontano Non mi piace Buonasera Giovanni Siamo su caldaia perché Che Cosa? Ma che ha detto? Siamo su caldera perché il torneo Mondiale di Torneo mondiale di Warzone si fa qua eh No, vabbè, guarda dove è passato Dove è passato? Eh, mi sa di sì infatti Ce l'ho quelli nelle classi Mi sa che userò quelle su caldera Vado ad arrestare l'uomo Grazie, grazie Si ricordi? 1200 euro Eh, erano sulla montagna qui Mi do 1200 spugni Spugni? Spugna! Vai, ah Falla una scivolata Bravo Vengo da te eh Pezzo di fango Vabbè Ci sei? C'erano le armi qua ho visto Si, si Sono sparite mi sa eh Non c'è più niente Porca di quella Bah, vabbè il tempo che mi hai rezzato sono sparite le armi Ho il pallone di rischi Ho il pallone di rischiere a vento Dai Dubbia l'arma Ciao C'è uno di Raven Oh, Leobotomy Leobotomy Leobot No No Come sta andando? Eh Così è così Sta andando Sta andando Con Leobot Sta andando con Leobot Fra, quanti erano? Ma perché non ci smuta? Fra, ha detto Che gli pago il caffè domani Ha detto che ti paga il caffè No Oh, 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 oh Oh, la scu... Mi sto giocando le due limitate No, non c'è... No Sono bloccato Guarda... Guarda di vai Che prima... Ma... 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 Madonna... Io devo questa sta comunque Madonna quella Dai però Tutto nelle tue mani Batman Sono finito in una brutta situazione io Guarda, guarda Si blocca davanti agli alberi, si blocca No No, mi dissocio Mi... No, no Mi... Mi dissocio Mi... Mi dissocio assolutamente Ma sembra lo stesso Io uso sempre Home theater Home traitor No, no, non abbiamo fatto la win tanto Vai tranquillo Vitto, grazie al follow Benvenuto Non la possiamo... Peccato Se arrivavi un attimino prima Giocavi contro Pippo e... Baudo Ma... 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 Comunque vorrei capi la giocata del tirare la... Tirare la fumogena e... Sia lui che te insieme Boh Ma dove... Ma ecco che ti sopra il tirare la... Ma ecco che ti senti un tegeghia, luco? Che ne sai tu... Va beh e auguri Che... che ne vedi so per lancio? e figurati sto gioco di merda naggia mea quando l'ho scaricato porco di quel porco è lo shop dietro questa è la situazione allora intanto ci gioca si sente più forte come titolo eh beh senti più forti anche i passi no vabbè la jeep di labbo c'è uno sopra sopra di te batman eh ma quello voleva acquistare fra era un cliente oh la felici di spaccare tutto io non li pago i danni ad activision ma prenditi l'arma leggendaria ma qual'arma l'arma 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 leggendaria c'era ma prendo io dov'è 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 che l'avevi lasciata l'arma 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 è una destra e una destra e una sinistra come arrivo da te che mi hai lasciato a piedi e no ormai ho fatto non è nostro ho fatto esplodere attacca grappole sopra di voi che è successo che poi ballo io non ho fatto niente prendetevi solo compratemi qualcosa mamma mia ha pure parcheggiata la macchina guarda come la parcheggiata bene manco la multa ci prende è meglio la L o la XL? la L io ho la L adesso sono un cretino sono troppi ping raga non atterro morto no 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 porco zio questo bordello che culo bello bello sopra sono safe bello bello sopra la montagna non è bravo non è bravo devo fare prendere la linea sì è stato a terra è stato morto è 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 morto dipende come riesce a giocare se non hai mai giocato con le levette dietro è difficile però è meglio con le levette dietro io senza levette ma non so più giocare è questa è la mia vita vi starete chiedendo come mi sono ritrovato in questa situazione perché non non premi più i tassi sopra no era pippo era pippo ah peccato 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 boys il stacco va bene bella 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 dai noi due ci becchiamo un altro giorno per allenarci ma dai bella ovvio ovvio notte notte ciao fra bella bella notte raga vedete scusate tu c'hai qualcuno da invitare io uno l'ho invitato aspetta perchè vedo chi è l'osso del party scusate comunque dicevo no fabio quest'anno niente vacanze buonanotte francesco dipende da come si è abituato mi trovo eh l'ho detto dipende da come si è abituato tra un po' vado pure io son cotto devo finire dei lavoretti chi è l'ostomo? chi è l'ostomo? no perchè sono io l'ostomo? ma no vabbè invito io facciamo prima dai qui sono finiti tutti eccomi ma c'è divine? buonasera agusto a dove no in realtà no agustone ma tu lo sai che il nostro agustone oggi ha avuto il suo pad ah oggi l'ha avuto buono buono top eh si 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 lo bello top ma divine è andato pure lui? si si anche divine ah è andato pure divine allora aspetta c'è bbro c'è bbro ma chi invidi? inizia ad essere mezzo cotto aspetta ho invitato il mio sostenitore aspetta che doveva venire bbro bbro dopo che ne pensi la cappa va bene su rebert su caldera no la stavo provando su caldera no questa qua qua va bene ma rebert eh comunque lo sa che ti consiglio quando sei in offline non sono mai offline comunque eh per la paletta no? per abituarti alla paletta diversa oh buonasera quale paletta diversa? no no non è che non mi abituato alla paletta diversa no le due sono due fra io gioco a tremo ah tu dici a te ti manca a me mi manca una paletta fra è come se mi mancasse un dito ma non l'ho fatto io nel senso il pad l'ho fatto io ma non l'ho scelto ma si potrebbe mettere anche quattro palette al tuo sì certo ah buona sega buona sega qualsiasi modo possibile immagino ah ho capito e a quattro palette saprei giocare oh perché non funziona? aspetta non mi starta buona sega sai che sai che dobbiamo fa' se no? e se lo vuoi modificato lo vuoi no vabbè poi vediamo ah ok non mi startava no vediamo in realtà preferirei organizzare quella cosa lì che ti dicevo vabbè poi vediamo è tuo quello la possiamo organizzare quello la possiamo organizzare perchè ho trovato l'armetta meta? quella che ho in mano pure io ho trovato ho trovato il i shit no scherzo aspetta ah sto soffiando il naso di lapo allora dicevo no no ma in che senso mi dissocio no ma dai no no che vuoi fare? mi sto soffiando il naso dicevo l'altro paletto è possibile il tuo adesso presto lo avrà anche qualcun altro cioè? ok stavo dicendo la beta del nuovo code esce il è a settembre raga mi pare che il ho il 12 il 12 dal 12 al 13 14 solo per playstation però poi sarà aperto a tutti dal 22 settembre tipo si per qualche giorno eh si ma durava pochi giorni tipo due giorni tre giorni tanto è e vabbè considera che ad ottobre ma tu l'hai già comprato? no ancora no aspetto che me lo regali tu bello prepararsi al lancio sulla zona di guerra puoi giocare l'anno prossimo bello per la cronaca lo con... io... eh? per la cronaca io con... io conversano ma tu ancora non... non sei cod partner no? no ma ma zio cod partner son pochi oh ma questi chi l'aveva visti? oh ma questi... chi l'aveva visti? niente uno mi ha detto su feed tutto a posto 4 kill ti piace la scotteca? ah è un paese non l'ho mai sentito conversano? mai sentito raga prima volta non esistito raga mi ha dettovi adotta ok a me non me lo dice hai capito? hanno s בסì dibattatori e l'm bello Grazie, sei da prendere tutti i miei litori. Oh, appena un coattivo! La mamma di Mattia! What? Avete killato la mamma di Mattia. Eh no, lo so, uno di voi ha killato la mamma di Mattia. La mamma di Mattia! O chi si chiama? Come bu da me. Ok. In fondo davanti a voi li stanno pushando. Che bello bro, c'ho 8 heal. Wow. Ah, Provincia de Berry. Ecco la Provincia de Berry, bro. Niente, comunque ormai sono diventato player di Berry, bro. Sono diventato da fare. Caldaria un po' schifo mi fa. Berry Country. Non ho capito chi si è ingazzato. No, ho venuto le munizioni. Che palle, non l'avevo caricato. Stella, stella, stella. Lupo, lupo, lupo. Gestotiamo, gestotiamo, gestotiamo. Cuore azzurro, cuore azzurro, cuore azzurro. Fuoco, fuoco, fuoco. Stella, stella, pecora. Pesce, pesce, pesce. Pecora, pecora, pecora. Lampeggiante, lampeggiante, lampeggiante. Come si ferma? Come si ferma? Grazie mille per le 100 stelle. E' una scelta. 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 Parco di quel porco. Ah, guarda là con quanto è rimasto. Peccato, peccato. Grazie mille per le 100. Com'è andata? Abbiamo perso, Fra, con la partita. No, rimani vivo, Fra, sto a 12 pill. Sì, comunque non è che mi convince più l'arma guerra. Non lo so perché, ma... Ah, devo cambiare l'inset, è vero. Devo cambiare il settaggio dell'arma guerra, bro. Me l'ho dimenticato. Ecco perché. Devo mettere vitale, non mi ricordo... Devo cambiare il settaggio, zio, avevo sbagliato. Da sopra eh. No. Devo ricambiare il settaggio, me l'ho dimenticato. Dieto di me, dietro di me. Dove? Da sopra. Da sopra. Da sopra. Da sopra. Forse c'era un altro. Cioè, avete qualche arma? Avete un barbaro dietro? Ora vamo buchiare. Un altro. 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 Non ti amo. Lo settaggio dell'arma guerra sbagliata lo devo cambiare Perché si è sceso qua vi ce lo so ce l'ho tutti su chemical Mi si è preso l'assalto qua a terra mi serve un assalto Questa non c'ha più le armi qua a terra No cecchino sul bacione Cazzo fa io lo so io Forse sotto Dentro dentro C'è uno Ragazzi c'è uno patente Uno Ah Quanti cazzo sono qua Sono tanti Eh uno alle spalle mi ha fatto Bapo uscirelo No sei l'ultimo Resta vivo Resta vivo Resta vivo Sette secondi e torno Attento stai scendo uno in capocce Eh no Non lo puoi fare Non lo puoi fare Oh Bum A me dovevo andare Perché mi hanno sparato anche altro che su Ah sono due Più uno sotto Giro 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 Grazie mille per aver fatto Benvenuto Un saluto a cattuso Sempre Sempre Ah no No way Bro Peccato Peccato Avevo 16 kill Avevo Peccato Devo cambiare il settaggio dell'arma guerra Signore Come lo devo fare Devo provare un'altra classe Con l'arma guerra Bro Devo decidere un attimo Mi sa che va cambiato un attimino il settaggio Lei ne sa qualcosa Com'è che si chiama qua Nikita Quindi faccio così Allora faccio un attimo Copia Provo un attimo una classe Allora Provo a cambiare un attimo il settaggio dell'arma guerra Con La canna qual è quella che si sta usando di solito L'ultima Se La botti La botti Poi più vitale Vitale Qua che cosa si potrebbe mettere No questa roba qua no Celerità 60 colpi Punta gava GG Così Ce l'aveva 60 così Signore Ho cambiato un attimo il settaggio dell'arma guerra Vediamo un attimino Ho cambiato una robetta eh Vai Penultima No la canna era questa qua eh Quella là che trovo Che ho visto usare La È l'ultima eh Io ho visto usare molto L'ultima come canna eh Vabbè Che hai detto Che hai detto Sotto canna io ho visto usare Michele Questo qua Questo che sto usando io eh L'SG Questo qua L'SG98 in realtà Al solito vi saluto Domani mattino La sveglia alle 6 e mezza Vai pure tu a farti la doccia Per andare al mare Devo fare la doccia Per andare al mare Beh Buona Buona doccia Vabbè Ma io direi Perché non ti svegli Alle 4 e mezza La doccia è lunga eh Servono 2 ore e mezza Oh Devi prendere la saponetta Poi devi prendere il sapone Lo shampoo Devi mettere la paperella Poi prendi il salvagente Vediamo come si comporta così La nostra cara amica E' anche più stabile in realtà E' pure più stabile Mamma mia fra Ma anche più forte E' pure da lontano Squaglia E' più stabile E' più Più forte E' non male Guarda io lo sto provando così La vedo bella Ferma Non si muove No l'MP7 Meglio di nuovo Questa è più forte Buonanotte Angelo Andiamo Dove devo andare? Dove devo andare? Dove devo andare? Grazie Grazie Per prima Che è successo prima? Dove andiamo? Dove inizia tutto Sto 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 C'è uno No C'è un mille Andiamo Andiamo Sì il kill L'abbiamo provato Non è male Ah Di nulla Di nulla Di nulla Sì 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 Vai tranquillo Lo conosci questo Aiuto Mi push No Ne bagni E lo sapevo Che mi facevi La giocata Ritornare Ha detto è lui Ha detto è lui Mi riconosce Mi ha riconosciuto Dov'è il carrello? C'ho soldi Dove ho Esce Per bene Mi ha distrutto Super win win easy Ma io avevo 16 kill Poi Se giocare Una pubblica Te senti Gesù A fare una mezza kill Contento tu zio Hai vinto Un milione di euro Ci serve Il carrello Non sto giocando Neanche col team Zio Cioè Siamo easy Siamo io Il sostenitore E il presidente Del team Officina del pad Uno di prima Ha fatto Super win easy Vi abbiamo distrutti Un serpentino E gente Una casa piccola Sì serpentino Non muore Fra Non c'è più Le piastre E io non c'ho Manco più i colpi No Devo andare Devo andare No Mi sparlo pure da bio Fra Io sono morto Sono morto Non ci credo Non ci credo Ti bordo Ti bordo Ci hanno saltato Ora le vado Beccato Hanno restato Uno sotto Niente Niente Due team Mi sono beccato H4 È stata un po' Depotenziata Dall'H4 Buono Buono Hai messo L'armaguerra pure tu Hai vice Non moriva Non moriva Non moriva È assurdo Non va giù Oh Eh uno è sul tetto Oddio come l'ho Confermato Ci sono due Sul tetto Salto Salto Boom Coltellino No No Andato Bravo Fate il bot Qua sopra Su Su Cazzo Di serpentino Fra ancora È assurdo No No Dietro Ma no Ma che sfiga Cazzo Buona situazione Ah l'ho visto L'ho visto È qua Quei due Se stavano a dare il bacio Della buonanotte Se stavano a fare le coccole Che cazzo succede qua Oh Ma questo sta ancora qua Che non muore Basta Oh comunque l'arma di guerra Adesso mi piace Se è stata così Eh Eh died water Died water Eh beh Perché pagliaccio Eh L'ho fatto L'ho fatto No 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 C'è un'altra! Non è così! Non c'è un'altra! Non c'è un'altra! C'è un'altra! Che culo! T'ho salvato pure! Non è questo che sparava! Pallo buono! Pallo buono! No! Questo a sinistra! Non ci sente i passi però! Madonna fra! Mamma mia come odio sta roba! Non ci sente un cazzo! Questo a sinistra non c'era! Quei passi! Madonna che gioco fatto male! No! No! Però non si può morire così! Cioè fra! Io stavo puntando a quello! Stavo puntando in fondo al bagno al corridoio E quello a destra che ti ha fatto nel bagno! Perché ero sicuro che non c'è stava nessuno! Perché non sentivo i passi fra i miei lati! Ma ha fatto uno ai lati fra! Perché non c'è stanno i passi! Porca di quella! Come vai a giocare con Balotelli? In che senso vai a giocare con Balotelli? Che vuol dire che vado a giocare con Balotelli? Che vuol dire che vado a giocare con Balotelli? Che Balotelli sta giocando a Call of Duty e io vado a giocare con lui! Come fai a giocare con Balotelli? Qui! Eh! E giochiamo con Balotelli! In video! Ah? Un attimo che vedo quanti sono Ah Signore da nulla si va Prova tipo boost basso Una cosa del genere No è meglio home trader Però a volte succedono queste cose qua Le ho provati tutti Io preferisco home trader Ah Andiamo un attimo Ieri ho assaggiato bilone Bravo bilone Date un assegno Fate una statua a Giovanni bilone Assaggia Assaggia sempre E se non ti rispondi più Bloca Bloca No sono diventato Come si chiama quello Non mi ricordo più come si chiama Quello che fa bilone Ma devi assaggiare bilone Devi assaggiare Che dobbiamo fare Vabbè mentre ti rispondo Startiamo O mi fai sapere Tutti Andiamo a giocare Balodelli Ah bello No si chiama Bello figo Bello figo Bello figo Non mi veniva il nome No mo mi ricordavo di Cappuccino Nutz Cappuccino Nutz Spero chissà che fine ha fatto Quello è scomparso al mondo Buonasera Andrea E ma poco Un altro Mi disse che era una cambiata Di impostazioni audio Un altro streamer Dipende Però dipende Dipende Con Cioè l'audio non funziona così Dipende dai settaggi che hai Dipende da dove stai giocando Console pc eccetera Che settaggi hai Se hai la scheda audio No Se hai solo le cuffie collegate In realtà cambia tutto Perché poi se hai Determinati tipi di cuffie Settate in un modo L'audio Varia Cioè Sono delle cuffie Che sono preimpostate Con un set Che Già pompano i bassi Per esempio Allora se tu fai boost basso Non ha senso Perché sono già cuffie Che pompano i bassi Tipo le beats Per dire no Faccio un esempio Giusto per dire Le cuffie beats Che costano anche tanto Quelle là Sono impostate Che devono sparare I bassi a mille Se tu giocassi Con le cuffie beats Non io le boost basso Perché quelle già Pompano di su In bassi Allora Sarebbe meglio Tipo un boost alto Perché quelle Non boostano gli alti Capito No c'è uno studio In realtà da fare Tipo le mie cuffie Sono Sono già sul basso In realtà Anche le mie Le mie Sono delle cuffie Chiuse Che già Aumentano In bassi Pure le mie Poi ci stanno Le cuffie Semi aperte Che dovrebbero essere Quelle che sono Un po' neutre Eccetera 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 E bla 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 Sì ho visto antonio 11 shipmente neanche di rispondi non volete andare contro le chissà lanciata contro lo battava fatta manmore prendimi questo l'ho visto a a a a a a Cazzo fai vice Che palle non c'ho più le piastre Non mi fa tirare il bomba E la Marco E se riesco a farla Se non mi fanno Ma vatta a prendermi No Mi stavo piastrando questo dietro le porte Da lì guarda Vediamo vediamo A questo ora sta giocando un po' a lotelli Ma sai che risate ci faccio A questo ora sta giocando un po' a lotelli A questo ora sta giocando un po' a lotelli E non posso più tornare dietro Mi hanno circondato Mi serve una mano Peccato peccato Fra uno one shot L'altro messo così Peccato E vabbè è andata così È andata così Che ti devo dire Doveva andare così Fratellino Io sono avanzato Fra poi mi sono trovato Nel bordello Che dovevo fa' Ok ci siamo tutti vai Quello si è fatto All'1.35 comunque Che dovevamo fare Che dovevamo fare E quando ho chiamato il loadout Capito Io stavo già avanzato Ero in mezzo a 2-3 di loro Che mi sparavano Non potevo tornare indietro O me li facevo O mi date la mano O morivo Sono morto Diciamo La soluzione era breve Io dovevo un attimo birre ragazzi Lei aveva un attimo Ah che bello Rocchetta signori A voi piace la rocchetta? Vi piace la rocchettina? Seppur all'organismo L'ultima di stacchi? Boh non lo so Portati balo per il torneo Eh C'ha da fare Sennò me lo portavo Fra C'ha da fare Non può mica stare 3 giorni A schiattato Su Su Warzone A sparare Sono 3 giorni di qualifiche Mica è un giorno O mica sono 2-3 ore Fra Sono 3 giorni Cioè Mi sposti i capelli Batman Sulla spiaggia Così di vero Che c'è? Vai su Whatsapp Un attimo Eh Ok Aspetta che vado un attimo A prendere Ce lo sottocarico Arrivo Sulla spiaggia Così di vero Armi Anima 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 eccomi eccomi ho visto allora che diceva? ah no non buo? no non buo vai dobbiamo andare? ui Ed come stai? ciao Ed oh lo facciamo questo team wipe? che è successo? mi ha manchilato sopra due bot no oh ah questo Lo so, devo riuscire sotto One shot l'altro eh, non c'è nessuno che mi dà una mano La carica E' una pistola E' terminato E' terminato E' dai Vai via, fuori Andiamo a stare qui alla noda E' vado via dai piedi Puscio io eh Va dai, ma come fai? Come fai? Ok io, forse Nooo Tanto zi Dobbiamo fare due ghiacchiere, dobbiamo fare Cioè, ma sarà? Te la vi solo la sera perchè c'ho da fare durante il giorno, bro Non ci sono tante cose da fare Ho la musica, eccetera Quindi la sera mi libero Nooo Già sta accendendo qua C'è da fare il lancio? No Dove siete voi scusate? Che non mi vedo sulla minimap Dove siete? Scusate Contro Sono la nave tra Arrivo da voi dai Buon aggiornamento all'interno del gioco Quando c'è stato l'aggiornamento? Ma adesso? Nooo Sono due qua, guarda, guarda, guarda Due, tre Ha di nuovo loro Ma stavano a tende Come sono arrivati fin qua? Vabbè, niente Niente, niente, niente Serve il lancio, regà Vabbè che mo' scende, eh 14 15 Dai Eeeh Sì, vabbè Sì, vabbè Eh, fatti il lancio Eh, fatti il lancio A me manca il lato di nuovo A me ti fermo in cazzo No, f*** di quello! Vieni A me l'ho sparato da sopra prison Eh, sì E quindi No, eh Non saprei che aggiornamento hanno fatto Sincero A me non è uscito niente adesso Spara due Guarda dove doveva tirarlo Fra me Mi hanno sparato proprio No, c'è il cente È impossibile Poi Non si può prendere Eeeh Eeeh Un'arma Niente, oh Niente Eeeh Ragazzi di arma Qua c'è il lancio, ragazzi Sto andando verso via No, ma a prison Non c'è gente sopra Non puoi fare A me non mi ha fatto fare Nessun aggiornamento, eh No No Ma come ha fatto? Come ha fatto questo? Eeeh Bah, signor Batman Lei dice sempre questo E' impazzito, signor Batman Dove s'hanno fatto? Fatto il lancio Qui è libero È libero fra? No, per niente Beh invece l'ho preso E mi ha sparato dietro Oh ma quanta gente c'è Ancora baguette con i francesi No, full team No, vince, vince Non scende, non scende, non scende Sono 4 Arrivo Eh Hai rotto le scatole Guido, hai rotto le scatole Fratele, tra poco te banno Te lo giuro, tra poco te banno Hai rotto le palle Eh dai Non state sotto il boccione, raga Team sia chemical che boccio Da come deve camperà questo Dalla botticina dei chemical E anche muro prison Peccato, peccato, peccato Eh vabbè andata, andata No, no Ma neanche se vai nel menu principale Vabbè non me lo fa fare Sarà una roba sul console solamente Probabilmente Cioè da PC non me lo fa fare No, dice che c'era un aggiornamento Ma Non me l'ha fatto fare a me No, ma io sto aggiornamenti Ma da PC è diverso Potrebbe essere anche solo un aggiornamento di playlist Robbe così, capito Che magari da computer non serve Ma anche perché Non Come si chiama Cioè non è che se c'è un aggiornamento Ti fa uscire per forza Non è che lo devi fare dopo Sennò non ti fa giocare Buona notte a gusto Infatti mi sta finendo la pazienza Con Guido Allora fammi pensare Quante vittorie sto fra Peccato Stasera Vabbè abbiamo fatto un po' di private Eccetera Non abbiamo fatto tante vittorie Guarda che Tenente se no mi raggiunge Stava a 8.68 Io sto Sto a 8.76 E Dove arriva a 900 C'è la gherta a 9.30 Dai che devo arrivare sopra Devo arrivare Fammi vedere un attimo qua Vernask Com'è Vabbè qua è rimasto 228 a posto Però male Dai dai Ci riproviamo Ci riproviamo Batman Dai 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 Batman Spingi Spingi Batman Buttiti un po' sfegato Che cazzo di schiena è questa? È quella di Snoop Ah è termine Eh sì È quella di Snoop lui eh È quella di Snoop bro Sì lo so Ma lui Continua a rompere le scatole C'è a un certo punto Stufa Pare che si sta spammando in chat Ha rotto le scatole Ah per le vittorie Eh per me sono anche poche in realtà A quest'ora se non toglievano Verda Scassavo sicuramente a più di mille passa vittorie Là invece mi sono fermato Deku Attenzione Ui È vicepezzo Di vicepezzo Com'è qua? Eh sono 1.48 Allora Allora com'era? Ah tramonte che ha killato L'affia presso il biscotto Tramonte che ha killato coso? No Ce l'ha pensato un po' Ma mi ha risposto Comunque è proprio bella Non pretende manco troppo Oddio Dopo devo vedere che video mi hanno mandato Ho detto il lupo che cagava le scatole Uè l'unica Perché la gente è così tossic Eh Non hanno nulla da fare Si divertono Cioè l'unica cosa Che possono fare Nella vita è quello Ciao Wabi raga Sono invidiosi Mamma mia Oh logo Bio Ce n'è uno a bio Fra Io ho fatto l'amico strano Che l'altro non è uscito A killarmi Tanto mo' esce a killarmi Lo vedo già che è qua Un altro Wabi Non c'è più vice Eh Il grinder non so chi mi abbia dato la pazienza A me porca miseria Il problema è che quando la perdo La perdo che non mi calmo più Poi inizio a Ad essere pericoloso Siamo Arbo Oh You fucking fuck Bazzes Nooo Aiuto Non potevo fare nulla Allora Senti un bobo Ma perché a me stasera Laggava da fare schifo Eh eh Perché i server fanno schifo Fra Cioè ho due sole cose O colpa dei server O Magari c'era Hai provato a fare lo speed test Su l'autoconnessione Magari Qualche problema Sulla tua linea I don't know A me non laggava stasera Però è vero che Batman È un Batman No Ma è che se No no Non sento più lice Io non sento più Ci sono Ci sono Ci sono Dai 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 Io nonno Ha detto che gli serve No 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 Andrè una blacklist Lunga chilometri Uh beta Y beta Ti avremo anche avesse Una cazzo rosso Non lo vedo più Non ancora qui Marco la nuova zona sicura Restate in 25 Tieni gli occhi aperti No capita Perché a quest'ora Capita Perché siamo Gli A parte che io ormai Conosco un po' tutti Ma A quest'ora Gli italiani Siamo in pochi Quindi ci conosciamo Siamo sempre gli stessi Peno male che ci brettiamo Da quello con lo scudo In fondo Chi è Non ci credo mai È stato nascosto fino a ora Che cazzo no fanno Che cazzo no fanno Porco di isse Porco di isse Perché quello mi do A tirare la stun Wow Quelli con gli squier PC Mio nonno Eh peccato Eh peccato Là mi tiravo Molta più gente No mi dissolvo È qua dentro No Dov'era che t'ha killato Tu cazzo mi preso Ah 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 mio È andato a chemica L'ho visto Ah mio È sceso Boh Pianco ma che fagliaggio Ah 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 Poi non c'entrano niente No Vigita è straviva Non ho piatto No E sono due qua sotto Ancora quello con lo scudo Madonna RPG scudo Guarda 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 Ancora Ancora Non ci voglio crede Buonanotte Adriano Ma le lobby vengono fatte secondo il KD? Sì e no A volte vengono fatte a casa A volte vengono fatte in base al KD abilità Non si è mai capito bene sta storia Diciamo che succede un po' tutte e due le cose Diciamo che se non trova persone Subito Te le mette a caso Se invece trova gente più o meno del KD Che ti possono battere Te le mette È fatto molto strano come trova le lobby in realtà Nessuno l'ha mai capito Diciamo che in teoria dovrebbe essere così Se trova subito Partite Capito Con gente che più o meno Sono del tuo stesso livello Più o meno O comunque Ma che cazzo C'è di questo? Prende che più o meno alle due vittorie Vai Da fessa da mamma Guarda è una schifezza Guarda è una schifezza Guarda come gioca sta accendo Guarda come gioca sta accendo Guarda guarda Due stun termite Madonna mia 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 Sì Ci possiamo boccare lo stesso Pure se c'è la radio 085 Beh Tenente lei vince così le partite Ci scudo Ma la mossa finale a quello Non gliela toglie nessuno C'è la miseria Ci voglio credere Guarda Ma porco di Ma è stato ancora con l'RPG Lo scudo Non voglio parlare No Si è pure tolto il loadout Guarda questi guarda Stanno aspettando Maria De Filippi qua sopra Stanno aspettando Annaccia tutto Stanno aspettando Stanno aspettando Fерь ma stavano altri due fra me sono arrivati altri due e che volevi far più c'era anche la bomba fuori non poteva andare fuori 18 kill a volte può essere che non gioco per quattro giorni questo ma rotto il cazzo ma questo ma lo banno basta ciao peccato avevo 18 kill sta partita dicevo commento sul kd 085 fra così pena diciamo che un po sotto la media però dipende da quanto giochi con chi giochi cioè in realtà non è solo il singolo che fa la differenza se vai a giocare a quartetti terzetti devi avere anche un buon team comunque per giocare perché è normale che se no fai muori 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 non concludi niente in partita diciamo che la media generale per essere un player non dico bravo ma normale è un kd 1.30 1.40 ecco dovrebbe essere lo so lo so stavo contro y beta lo so l'ho fatto due volte ho visto ho visto michele sì quel kd lì 1.30 1.40 sotto l'uno siamo sotto la media eh ma quello è un problema se non giochi per tanti giorni due tre quattro ore al massimo vabbè due tre quattro ore sono io ah vaffan bagno allora eh al massimo la sera 4-5 giorni a settimana allora 4-5 giorni a settimana ok però se poi manchi dopo 4-5 giorni non dico come se dovresti fare tutto da capo però sicuramente state tranquillo che la sera in cui riattacchi non riesce a giocare bene eh oh che è successo stanno qua lascia stare che dopo che ho fatto a te me sono arrivati in tre con scudo rpg ne ho killati due stavo scappando dal terzo ma ho fatto uno del tuo team e vabbè sarò morto tipo due tre volte da quelli con l'rpg e lo scudo le bestemmie chi è? che è successo? eh allora perciò ti consiglio di giocare singolo a sto punto invece di fare team casuali eh ma quella ci sarà sempre quella gente ci sarà sempre Balotelli non lo so Balotelli non ti hai detto niente ma dove l'hai scritto? eh? Balotelli, Balotelli, Balotelli eh si can you hear me? yes yes is it good quality? sono in quattro quindi non mi posso aggiungere nemmeno io ah sono in quattro ok yes yes Balotelli sicuramente quality? eh tell me tell me how is my quality sound quality? eh ma non nooo you speak to you speak for Balotelli? can you hear me good? ehm a little bit hmm there is some noise there is some noise in the microphone eh now? now hmm what's the problem? so so eh i don't know mmm not good? eh not very good bro I suggest you to buy a new microphone And a new headphone Allora siamo a favore internazionale adesso Control Tipo se vado su caldera invece non ne chilo uno è assurdo Vabbè caldera è una mezza schifezza Ed è più complicato Trovo difficoltà anche io online in realtà adesso Che bello Che ha stream snapperato Che bello Che bello Che hanno stream snapperato Guarda 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 Eh Barodelli ha detto che sono quattro Non ci possiamo aggiungere ancora Stanno già in quattro Eh no ci aggiungevamo Mo se stacca qualcuno di là Però me sa che non stacca nessuno Mo vediamo Se stacca qualcuno con Barodelli andiamo Ma scrivi ah dici c'è il lupo bianco Sì Ti vuole fare qualche partita Però diglio prima che stacca Prima che stacca Un due partite Un due partite al volo Oh questo sta qua No le le No lo avuto Sta facendo un casino Della madonna questo Questo microfono Let the show beginning Chi è che piglia per il Q Chi è che sta prendendo per il Q Così imparano Noo dai chi mi ha sparato alle spalle C'ho io crede Una prisa Ma va laser è stato il mio C'ho 700 di danno Manco mezza chilo Dobbiamo assolutamente far fuori quel team Siamo a potere Ho capito Mi dissocio dall'ulite Oh Eh io gioco da quando avevo 12-13 anni Poi avevo staccato per un periodo Prenda regà Dove state? Ma l'amico l'inglese ha abbandonato Ma l'amico l'inglese ha abbandonato Malitacci sua Mi sono da svegli alle 6 di domani Dici di andare a lavorare? No No Chiamo malattia Nella sinistra? È sopra il fetto Si chiamava Botto Tony Botto Tony Va bene No io scherzo No vai a lavorare scherzo scherzo No 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 Non ci si chiamava No 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 C'è tra i primi No Perché si è contratto È possibile sto gioco La seconda volta che muoio Con la grata attaccata addosso Non ci voglio credere Neanche te lo giuro Neanche avesse una sfida di 10.000 euro Questo riusciva ad attaccarlo Stasera c'è una sfida addosso Che madonna C'è qualche cornuto che mi sta nominando Stasera Ma porca di quella Eh, finita la partita Eh, ciao Batman Allora, che poi non prenderei mai Se vuoi una vita Debrava al massimo Per ridere e basta Ma perché? Che è successo? Non ho capito Chi è che ha detto che... Si è bugato tutto, fra Che è successo? Mi sa che mi è crashato il gioco, raga Eh Si No Oh, si è ripreso Stavo a dire ma... Secondo te staccherà mai qualcuno da Balotelli? Perché se dici che più tardi riusciamo a giocare Magari resto collegato Sennò vado a dormire Ah, sinceramente sto staccando Ah, tu stacchi? Mi senti? Ma... Oh Adesso sì, dimmi Mi senti? Non lo so se stacca Non lo so? No, no Veramente Non ti sento bene Dimmi Si blocca Stavo dicendo che... A mo' mi distacco pure io Perché credo che... Ma che stava giocando C'erano Douglas Costa e... E coso Ma come si chiama? Il rapper là non mi viene in mente Chi è il rapper? Quello che canta Non è mischilo Ah, Sfera mi pare che stava giocando Ah, stava a Sfera con loro? Eh Oh, facci lui cazzo E quindi... E quindi non... Non so se stacca qualcuno Anche per queste gente che ha giocato tutta la notte Infatti ce l'ho detto a Federico E allora nulla fra Andiamo a dormire Sotto lo schermo Sì, il Balotelli è il vero, regà Sta giocando con Douglas Costa E... Sfera e basta E... Vorremmo andare a fare qualche partita Con loro Gli aveva scritto Però... Sono già quattro Quindi nulla Eh... Samir, grazie per il follow Benvenuto E niente Io sto un attimo con la puzzona Beh, io la soluzione ce l'ho Dovremmo andare tipo sotto una foto di Balotelli Sotto un post di Balotelli Magari su Instagram E scriviamo tutti quanti Hashtag Gioca col lupo bianco Hashtag Gioca col lupo bianco Hashtag col lupo bianco Se andiamo tipo in 100 O in 50 A scrivere tutto sotto Tutti sotto una foto sua L'hashtag Gioca col lupo bianco Hashtag Gioca col lupo bianco Magari Nota E... E riusciamo a organizzare Io l'ho detto lupo Organizziamo Organizziamo una sera di questo Ah, ok Non mi dire che faccio il delirio Lo sai Aspetta, però forse c'è sta Batman Che ci fa organizzare No, regà Non sto scherzando Veramente, veramente Batman conosce Balotelli Aspetta Ero mutato forse L'ho detto Ok, no Perché Altrimenti Mi andavo la mia chat A scrivere sotto Una foto di Balotelli Gioca col lupo Gioca col lupo No, c'è troppa gente Quanti sono sul tetto Oddio, quanti sono Sono le armi Sono tanti sopra È fatta terra uno? Non c'ho l'arma dagli stanzi Pure sotto, regà Pure sotto Non mi posso muovere io Che palle Hanno rotto il cazzo Hanno rotto il cazzo Questa pava Esci lupo Esci dalla partita Quanti non so Hai rotto il cazzo Sembro Violet Allora Aspetta un attimo Ma fa così Non c'ho il metodo Per quanto stream sniper No Ho il metodo Sì, basta bloccare No, no Non c'ho il metodo Ma vedi Ma vedi Come stream sniper No, no, no Io ho levato la scremata del gioco Ho levato l'audio Ma non sanno quando starto No, lo so Lo so Io mi fermo Ah, facciamo l'ultima Dai, facciamo l'ultima Poi Mi fermo anch'io Fra che pure io sono stanco Ma vedi Ecco qua Guardate, guardate Eh, vabbè Poi Mo vediamo Mo vediamo Ragazzi Dai, mo vediamo Assurdo Che fai le due di notte Vado a stream sniper Ma lo so Mi piacerebbe dire A questa gente Che dice Tu stai Parato No Maggi che si sente il mio audio Bene La tua live Per favore Vai, ho levato il gioco Poi Si sente bene Ripeto Però Attende le parole No, no Tranquillo No, no Non devo Di, di, di Allora Mi piacerebbe Mi piacerebbe dire Ma Si 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 Ah, ok Stavo dicendo Mi piacerebbe dire A questa persona Tanto I loro ID Sono Pubblici No Penso Si Si vede tutto quello Si vede tutto il loro nome E quant'altro No, no È così Quindi La cosa bella Sai qual è Queste persone qua Va bene Queste quante Poi Da settembre in poi Verranno raccolte Tra tutti gli stream sniper Hanno Tutti gli stream sniper Che rompono le scatole Tra i vari streamer Come lupo Che Ai tornei Ma non partecipano già, mi sa, ai tornei No, aspetta, aspetta Non solo ai tornei Anche agli eventi organizzati per gli gamer Alle cose fatte per la community Le persone qui, vedranno Non partecipano Eh, ma bisogna fare una blacklist Tranquillo, che la blacklist Comunque, dicevo, se il video se ne parà Significa che praticamente Guardano la live E quando vedono che io non sono in una lobby Che sto cercando la partita Cercano nello stesso momento in cui In cui sto cercando io la partita Così entro nella mia stessa partita Guardano dove scendo e vengono a uscitermi Sto piastrando arrivo Eh, ma c'è saltato Altro, l'ultimo, l'ultimo qua Quello a terra Uh, no Eh, resta un dono un attimo Batman 8 secondi e torna Ma non ho fatto niente con Violet Lei che si è impressionata Io ho anche scritto Ho detto guardati la live È tutto salvato Non ha risposto Niente, sono sceso altro via Porca miseria Ma scherzo Non lo so Però chi non lo sa Va a finire che ci crede Prima o poi la pubblico quella clip La sua clip Prima o poi la pubblico Dio mio, dio mio La gente Che patetici Che è successo? Ancora con la granata Ho lasciato Ho lasciato i soldi a terra Ho lasciato i soldi a terra Per far credere alla gente Di non essere Ancora Ancora fanno ste robe Mi sa che ti Mi sa che ti troverai su TikTok Con quella clip Abbiamo i soldi Se venite da me Se trovo una clip del genere Su TikTok Mi faccio sapere Guarda 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 lì Dove sei tu vice Vai vieni vieni Facciamo il lancio Eh dai La facciamo domani Samere La facciamo domani Che mo Questa faccio l'ultima E vado anch'io Questa Cerchiamo di farla seria Vorrei vincerla Per staccare in bellezza Facciamo una cosa Ve lo lascio sto lancio Dai io Ho due armi Buone dai Alla fine Chemical è brutto Zio Usciamo quelle di Chemical Per favore Va bene Andiamo a Chemical Sono sopra Uno si è lanciato Non ci stanno più Non capisco Oh Sono andi via Elicottero Oh No Il cestino Dove? Sul boccione Sul boccione Provo a farla giocata con l'elicottero Dai vado con l'elicottero Ma vai bravo Oh questo si butta No No per sbaglio sono caduto La terra L'hai chilato? Da prison però mi hanno ingaggiato C'è chino da prison Speriamo che riesco a risalire Speriamo che Ritogliere l'elicottero va Pronto? Sì, boom, boom Oh, staccate Niente, mi sparano Devo lanciare Oh, chi t'ha fatto? No, tranquillo, tranquillo No, non va a terra Stanno tutti sul muro, fra, tutti al muro Dai, mi hanno killato, dai Io sono morto, mi sa Io non vedo più niente No, è stato proprio un coglianazzo sta giro Niente, alla te, non vedo più niente Che fica non vedo più niente Eh, vedo, ho tutto lo schermo nero Oh, no, ritorno Boh Si era buggato? Oh No Oddio, fra, cosa avevo fatto là sotto Se non c'era il terzo No No Niente No, però una da solo in singolo me la devo fare Non lo so, ti ha mandato 99 stelle Strano Se no, se per mandare 100 forse devi fare Forza la B Un esclamatico 100 Che cazzo sta giro Non gioco alle 100 Non lo so Comunque grazie mille per le 99 stelle, Alex No, un singolo fatto per me me lo devo fare Va bene Se di poi fammi sapere, dai, quando organizziamo, dai Quando c'è Ciao, bello Quasi tutte le serie sarà possibile Ah, e allora fammi sapere, ah Che mi tengo, mi tengo libero Va bene, buonanotte Ciao, bella, buonanotte Io un singolo me lo faccio, regà Perché non si può staccare così Bisogna staccare per bene No, comunque dopo una buona partita Mi faccio un singoletto Boh Ti conto Dai, dai, va bene, va bene Ci accontentiamo di 99, dai Poi magari la prossima volta Metti quell'uno in più, fai 101 E appariamo, e appariamo Così mettiamo pari 100 e 100 Dai, mi stai facendo compagnia a sto lavoro? Eh, lo so, ma devo andare Anche tardi La mattina C'ho da fare C'ho da lavorare con la musica Quindi Poi so, oggi Sono mezzo cotto Che ora è? 2.26 Sono già 4 ore di live, regà E inizio a non vederli più bene Allora Facciamo sto singoletto Dai, dai Trovaci sta partita Fra, dai A volo 2.265 volte in top 5 Madò Mamma mia A quest'ora Starei Guarda quante vittorie Potevo sta' Io sto a creare le 6 Beh, volendo C'è sta tutto il voto di tutta la live Sono 4 ore di live Se ti rivedi tutte le 4 ore della live Arrivi a Alle 6 e mezza Tipo Vabbè No, lasciando stare Che mo Ma anche se te ne vedi solo 3 Arrivi più o meno a quell'orario Ah, cacchio Guarisci presto, Daniele Vediamo come va sto singoletto Ecco il grado basse Ah, peccato Ho detto Sembri Sembri In verità In verità Sono un pgf Oh my god Oh no Perché mi lagga, bro Che vuol dire? Facciamo domani Domani mi faccio la classe col cecchino E con l'arma guerra Dai No, di solito vado in live Verso le 21 e 30 Però Questi giorni sto facendo un po' tardi Appunto Perché sto facendo anche altri lavoretti Altre cose Quindi sto arrivando Verso le 22 22 Un quarto Più o meno Però di solito Verso le 21 e 30 Di solito attaccavo Questi giorni sto attaccando un po' più tardi Sì, sono di Napoli Napoli Wow Quanta gente Oddio Dai Questa te la dedico Samir Questa è per te La chi colcetto Sì, sono di Napoli Sì, sono di Napoli E dai Caricami Tre ore No Smirato Livello 7 Easy Beh, mi puzza tanto questo Livello 7 Non ha sbagliato un colpo Impossibile Livello 7 Vuol dire che è iniziato a giocare Mo' Vabbè Sempre un bel gioco Warzone Lo offrono il caffè Eh, ce l'ho offre quello di Baristel Eh Quest'altro pure che mi ha sparato Secondo me è pure quello qui Ma c'è che è impossibile Mi ha tornato a decidere Porca miseria Questo gioco Mi 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 so, ce l'hanno smegnato un colpo così. Ma che significa? Io non c'entro, eh. È il gioco. Ah. Ah, guarda là per poco. Si, mi presenta sotto a casa tua con la cassa a paretta, Swag. Con la cassa a bose. Wow, quelli spaccano tutto. Crolla il palazzo. Ancora devo far il lancio io. Ciao, Diego. Buonanotte. Stavo facendo l'ultima io. E' arrivato il lancio, in teoria. Ah, ora. Questi motori si sono sparati. Sopra. E' ancora quello soprabbio. Non è andato sul lancio. Vediamo se disturbiamo la situazione, va. No, bro, non faccio un'ottuna, devo andare. Prima o poi la facciamo. Però in questo momento, in questi giorni lo riesco. Eh, questo non va giù. Forse con questo lo tiro giù? Dove si è tirato? Eh, ho capito. Ma voi vedete che su bio se c'è gente che te guarda? Scusa. E' impazzito. Che mi vieni così. Oh. Oddio. No. Mi sono preso una cecchina da faccia. Mamma mia, come ti son finito dietro, fra. Non, 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 non. Eh, uno... Uno vi uno è un'altra questione. 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 Scusa. Uno vi uno è un'altra questione. Buonasera, Christian. Questa mia è nuova comunque. Lo scudo che... Ma Uno scudo che mi ammazza così Non c'è male, non c'è male Ma ho un po' stanco Infatti stavo facendo questo e andavo Non c'è male Non c'è male Che caccia è quello con la balestra? Ah è morto qua Mi pare Aspettiamo che va via quello da là E poi mi alzo Abbattava la carta Abbattava la carta Abbattava la carta Oh è impossibile Avevo anche la stick Peccato Vabbè secondo posto Allora stavamo dicendo Ho fatto prima delle vacanze un periodo di prova come agente immobiliare Ah Non mi convince tanto Cioè nel senso In un'agenzia immagino Lavorare in un'agenzia Che ti mandano in giro insomma Oppure agente immobiliare Oppure agente immobiliare fatto in modo diverso Cioè non tipo tecno casa Con le robe là Ma fatto in modo diverso Ehm Ma non so bene come funziona Però Ovvio Ok ok Tipo tecno casa Praticamente Non so se là C'è sta Il La possibilità di fare carriera Però buone Questa Eh infatti Questa è una bella partita Peccato Io me l'aspettavo Che l'altro nel frattempo Mi ha pushato Quello dal boccione Perché quello era Quello che mi ha pushato Era quello del boccione Però Ho detto Vabbè Forse starà al piano sotto Perché non l'avevo sentito Salire le scale di là Ho detto Forse sta ancora giù Adesso mi pusherà Mi prendo il tetto Invece era già salito No te lupo Sei spettacolare Ti vogliamo su Italia 1 Pochere maldita Tipo Tipo come il Il gatto in fiera O I pacchi Daggia la miseria Mamma Ho perso il lupo Su Italia 1 Comunque Che stavo a dire Metto lo schermo intero Va Basta ragazzi Non ce la faccio più Vado a dormire Fammi mettere pure gli occhiali Va Stavamo dicendo Agente immobiliare Tempo casa Il 23 Devo tornare Mi ranno sì o no Vedi un po' Vabbè Per iniziare a lavorare Ci sta Ci sta Poi io ti direi Aspira di più però Nel senso Comincia così Magari impari cose nuove Che ti possono servire Poi direi O te metti in proprio Avevo visto qualche video Di uno Che tipo si era messo Diciamo quasi in proprio Cioè lavorava Non proprio come agente immobiliare Ma Diciamo aveva studiato delle cose E Lavorava Per altre persone Che volevano affittare Per esempio Gli immobili Capito E quindi tu potresti imparare cose Lavorando lì Poi magari un giorno Se vuoi migliorare Decidi di andare via E E puoi fare una cosa del genere Magari ti metti a lavorare Per qualcuno Che ha Che ne so Bread and breakfast Cose Che ne so O un qualche privato Che ha bisogno di affittare Per esempio I sui mobili E li gestisci tu Capito Per esempio Potresti fare Un ciccio valenti Che ti commenta Ciccio Graziani Io vorrei No De Marco Io vorrei Ciccio Graziani Allora Pinato per domani Sono in ferie In teoria Però andavo a fare Un lavoretto come giardiniere E ho fatto saltare Lupa No Valla a fare il giardiniere Zii Ti metti con due piante Qualcuna te la mangi Che fa bene Notifiche Notify No punto esclamativo Punto esclamativo Notify tutto attaccato Cioè notify come l'hai scritto Manca il punto esclamativo Buonanotte Daniele Buonanotte Ciccio No ciccio Caccio valenti Mi dissocio Ma che sta a scrivere Caccio valenti Ma dove è uscito Caccio valenti Ciccio grazie Guido E Guido Maga combinata Ho confiso tutti i nomi Oh Non c'avevi le notifiche Attivato Fabio Top Adesso in teoria Si sono attivate Bomba Niente Ragazzi al su Guardi tagli Ci becchiamo Domani sera Ehm Non ve lo dico L'orario Tanto Ma dico alle 9 Poi attacco alle 10 Allora In teoria L'orario Medio in cui attacco È le 9 e 30 Di solito Spero di domani Di attaccare Punto alle 9 e 30 Massimo 22 Sono online Ok Tenetevi pronti Per colorare Alla Buonanotte Steven Ah Ciccio valenti Ciccio graziani E Guido Oh Il commento è giusto Perfetto Dai ragazzi Buonanotte a tutti Buonanotte a Alex Buonanotte a tutti Ci becchiamo domani sera Un bacione Un bacione Massimo 22 A presto Scrive Oh Dei Grazie a tutti.